di farmi. Ok, ci spiega questa cosa. Buongiorno a tutti quindi e benvenuti a questa iniziativa di dibattito su ciò che sta avvenendo in Palestina in questi, proprio in queste ultime settimane. Abbiamo intitolato Palestina di nuovo in fiamme, ovviamente per la nuova esplosione che c'è stata del conflitto israelo-palestinese, ma anche per fare un po' di giustizia, un po' di verità, perché questo conflitto che viene raccontato, in cui improvvisamente torna sulle prime pagine dei giornali o sui telegiornali, in realtà è una situazione di oppressione nazionale, di occupazione, di angherie, di privazione dei servizi, delle infrastrutture più basilari per la vita che soffre quotidianamente il popolo palestinese. Non è una cosa che scoppia appunto una volta ogni tanto quando ci sono le escalation e i bombardamenti da parte di Israele. Noi oggi vorremmo quindi spiegare, provare a spiegare quello che sta avvenendo e anche ricostruire le radici storiche della situazione che esiste oggi e offrire un punto di vista rispetto alle prospettive e le alternative che possono far uscire da questa situazione di oppressione. E probabilmente una delle cose più importanti che c'è stata proprio in queste ultime settimane, che si è sviluppata anche prima dell'escalation militare, sono state queste grandi manifestazioni che ci sono state in tutta la regione, nelle città palestinesi, nei territori occupati, a Gerusalemme Est e poi durante i bombardamenti anche nelle città israeliane. Questa mobilitazione popolare, è una mobilitazione con manifestazioni di massa, resistenze anche agli attacchi squadristici, in certi casi non c'è altro modo per definirli, che si ricollega alle tradizioni migliori e ai punti più alti della lotta della resistenza palestinese. E quindi questo è un aspetto, forse l'aspetto come dicevo più importante, a partire dal quale è compito di chi vuole portare una solidarietà attiva, organizzarsi, attivarsi a fianco del popolo palestinese per trovare appunto e tracciare una prospettiva rivoluzionaria, dal nostro punto di vista, per uscire da questa situazione. Le manifestazioni non sono state solo in Palestina, ci sono state grosse mobilitazioni di solidarietà in tutto il mondo, anche in Italia. Noi come sinistra classe rivoluzione siamo intervenuti qua in Italia, ma sinistra classe rivoluzione è la sezione italiana della tendenza marxista internazionale, che è un'organizzazione presente in tutto il mondo, che si organizza e lotta contro il sistema capitalista e i militanti della tendenza marxista internazionale sono intervenuti in queste mobilitazioni in tutti i paesi in cui siamo presenti. Io vi invito ad andare sul nostro sito internazionale che è www.marxist.com, così come su quello italiano che è rivoluzione.red e sulle pagine social dove potrete vedere appunto un po' di questi interventi e le voci, gli interventi, i discorsi che sono stati fatti in tutto il mondo in queste settimane. In questi giorni appunto abbiamo avuto modo di intervenire in queste piazze e confrontarci, devo dire che una cosa che è un elemento, anche questo di novità, è stata una grossa partecipazione di giovani, di giovani arabi, palestinesi ma non solo, in queste piazze che non avevano più solo una composizione diciamo così di attivisti di lunga data e questo sicuramente dice molto rispetto a un processo di radicalizzazione, di aumento delle lotte che si sta sviluppando a livello internazionale. E proprio in queste piazze abbiamo avuto modo di discutere e anche di raccogliere diverse adesioni, diversi consensi alla partecipazione, all'organizzazione di questo momento di approfondimento. Ora, come si svolgerà questa discussione? Io fra un minuto lascerò la parola a Georges Concier, che è un militante marxista palestinese che vive da qualche anno in Italia e che farà un intervento introduttivo. al termine del suo intervento ci sarà spazio per un dibattito. Io invito chi vuole parlare a segnarsi nella chat, segnalando appunto il richiedendo un intervento. Anche se qualcuno non volesse fare un intervento a voce può tranquillamente scrivere in chat se ci sono delle domande o delle osservazioni che provvederemo a girare a Giorgi in modo che possa prenderne conoscenza. Successivamente al dibattito, entro le ore 20, lasceremo la parola a Roberto Sarti della redazione di Rivoluzione, che è il giornale di Sinistra Classe Rivoluzione, perché possa fare delle repliche e concludere questa nostra discussione che quindi puntiamo a far finire per le 8 e 20, 8 e 30. Io credo che queste fossero le cose più rilevanti da dire, se per qualsiasi domanda, per qualsiasi chiarimento potete tranquillamente usare la chat e a questo punto senza rubare altro tempo, lascerei la parola a Giorgia per la sua introduzione. Allora, ciao a tutti. Anzitutto voglio ringraziare Sinistra Classe Rivoluzione per aver organizzato questa assemblea e vedo anche che ci sono tanti partecipanti, grazie anche a voi che siete anche interessati della causa palestinese. Allora, in realtà anche io faccio parte di Sinistra Classe Rivoluzione anche io da qualche anno, io sono nato a Bethlehem in Palestina, mi presento di nuovo e sono in Italia da 2013. Comunque, allora, per capire la situazione attuale in Palestina per capire come mai le manifestazioni oggi sono diverse rispetto a quelle precedenti e per capire quello che accade soprattutto a Giorgia nel Mest, nel quartiere Shekharah, credo che sia anche importante parlare un po' della storia, tornare un po' della storia per capire come è stato anche fondato Israele, per capire tante cose e questo ci aiuta a comprendere meglio la situazione attuale. Come noi ben sappiamo, la Palestina comunque fino alla Prima Guerra Mondiale era sotto l'Impero Ottomano, come anche la Siria, il Giordano eccetera. Poi a fine della Prima Guerra Mondiale, con la sconfitta anche dell'Impero Ottomano, i paesi alliati, principalmente comunque la Francia e anche la Britannia, anche era l'Impero Britannico, ha fatto, hanno fatto comunque un accordo che si chiama l'Accordo di Sykes-Picot, dove loro hanno diviso i paesi del Medio Oriente tra di loro e questa di conseguenza ha portato, ha fatto sì che la Palestina sia sotto il mandato britannico e in maniera ufficiale era nel 1920. Però tre anni prima il ministro di affare esteri britannico, che si chiama Balfour, ha fatto una dichiarazione, la sua famosa dichiarazione, appunto che si chiama dichiarazione di Balfour, dove lui ha promesso al popolo ebraico, anche al movimento sionista, non voglio dire popolo ebraico, nel movimento sionista in Europa, di fondare uno stato ebraico in Palestina. Allora da quel tempo fino ad oggi sono cominciati comunque i flussi di migrazione di ibrei da tutto il mondo e in Palestina. Ovviamente c'era una resistenza palestinese contro questo flusso di migrazione ebraica e addirittura a quel tempo comunque in Palestina esistevano comunque musulmani, cristiani, ibrei, anche se ibrei erano una minoranza, però comunque esistevano e comunque hanno combattuto insieme a tutti i palestinesi contro questo flusso di migrazione ebraica dall'estero. C'erano tantissime due volte palestinese, ora ovviamente non ho tempo di spiegare ognuna, però passiamo direttamente alla 48, dove comunque due gruppi sionisti, che erano comunque appoggiati, finanziati a tutti i livelli economici, militari, eccetera, negli Stati Uniti, perché come noi ben sappiamo i Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale ha cominciato a prendere il ruolo dello Stato imperialista coloniale più forte nel mondo dopo la discesa comunque delle Gran Bretagne, perciò il finanziamento del movimento sionista è passato dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti. e loro, questi gruppi sionisti armati dagli Stati Uniti, hanno potuto comunque sconfiggere i palestinesi nel 1948 e di cacciare, spegnere più di 800.000 abitanti palestinesi, oltre al fatto che hanno distrutto più di 500 quartiere palestinesi, città e paesini anche palestinesi. Però un punto è molto importante anche per capire la questione di Sheikh Jarrah, è che alcuni di questi 800.000 palestinesi profughi che comunque sono andati fuori dalla Palestina, alcuni in Giordania, alcuni in Siria, alcuni in Libano, eccetera, che attualmente comunque sono più di 4 milioni, alcuni di loro si sono spostati da parti come Haifa, e fino a Gerusalemme e altre parti di Cisgiordania. Vi faccio vedere comunque una foto che potete capire le cose migliori. Alcuni si sono spostati, non so se vedete bene, da questa parte bianca fino a questa parte verde, che questa verde più grande è la Cisgiordania, quella più piccola è la Selecia di Gaza. La parte verde più grande che è la Cisgiordania, dopo la sconfitta del 48 e il massacro, che noi comunque la chiamiamo Nakba perché è stata una catastrofe per la palestinese, la Cisgiordania era comunque sotto l'amministrazione giordana e la Selecia di Gaza era sotto l'amministrazione egiziana. Alcuni di questi profughi che erano cacciati dal 48, nel 56, l'amministrazione giordana insieme all'UNO, che comunque è un'organizzazione per i profughi palestinese che fa parte anche dell'ONU, hanno fatto un accordo con questi profughi palestinese che noi vi vogliamo costruire delle case qua, a Sheikh Jarrah, che è il quartiere dove oggi ci sono diciamo le manifestazioni, c'è comunque il problema. E poi però noi ovviamente vediamo tutti gli atti fondiari per queste case, però voi vi dovete rinunciare allo status di profughi. Erano comunque 28 famiglie che oggi sono più di 500 persone. E hanno fatto queste case a Sheikh Jarrah e a Yerusalemme. Però dopo il 67, la guerra dei sei giorni, Israele comunque ha preso il potere, ha continuato, diciamo, ha occupato le parti interessanti della palestinato, ha occupato l'Isordania e anche la streccia di Gaza, ha anche occupato altre parti della Siria, di Egitto, eccetera. E poi da quel tempo fino ad oggi, anche prima, il governo sionista in Israele introduce tantissime leggi per facilitare il conquisto e il furto di territorio palestinese. Ma non solo oggi, ma questo anche, diciamo, come dicevo anche prima, dal 48 anche più, dopo il 67, hanno introdotto più leggi per facilitare il conquisto e il furto di territorio palestinese. Ovviamente le leggi che loro introducono valgono solo per i ibrei, non valgono per i palestinesi, perché per loro ci sono gente di classe A, di classe B, di classe C. E non tutte le leggi ovviamente valgono per i palestinesi. Allora, e quelle di Sheikh Jarrah, le famiglie di Sheikh Jarrah, che attualmente loro stanno lottando contro i coloni israeliani, ci sono due organizzazioni sioniste coloniali israeliani che hanno indicato il fatto che loro, i loro avi, erano su quel territorio e loro devono comunque conquistare quel territorio. E la legge israeliana permette a loro di farlo. Perciò la corte israeliana, a febbraio di quest'anno, ha preso la decisione che le famiglie palestinesi devono uscire per far entrare queste colonie israeliane. anche se, secondo la legge dell'ONU, ovviamente che io non ci credo tanto, non può fare niente, però nonostante ciò, secondo la legge dell'ONU, la legge internazionale, l'Israeliana dovrebbe essere sotto il controllo palestinese, non quello israeliano. In teoria Israele non può prendere decisioni del genere. Questo è un'altra cosa che bisogna anche ricordare. Però le famiglie palestinesi si sono appellate a questa corte per cambiare la decisione. E comunque la corte voleva, diciamo, prendere la decisione finale il 5 e il 6 maggio. Il 6 maggio, diciamo, era il punto, diciamo, di svolta delle situazioni attuali dove i coloni volevano invadare queste case palestinese, però ovviamente i palestinesi, quando uno viene a cacciarti dalla casa, tu devi resistere perché hai il tuo diritto a resistere. Addirittura abbiamo visto anche i palestinesi hanno filmato quelli che fanno i coloni. Alcuni coloni dicono noi sappiamo che questa è vostra terra, la vostra casa, però noi vogliamo rubarla perché se non la rubiamo noi viene qualcun altro a rubarla. Comunque i palestinesi hanno, di Sheikh Jarrah, hanno combattuto, hanno resistito contro questa aggressione da parte di coloni israeliani che comunque sono protetti dall'esercito sevinista di Kobach San Nazaria. Ma non solo. In tutte le città palestinese sono uscite manifestazioni in tutte le città di Giordania. Oltre al fatto che in tutte le città, diciamo in Israele, dove ci sono palestinesi, sono uscite in manifestazioni in solidarietà alle famiglie di Sheikh Jarrah e questo è comunque un punto molto importante. Perché? Perché da tanto tempo noi non vediamo i palestinesi che vivono in Israele che manifestano contro il governo. Prima è vero che c'erano tante manifestazioni, eccetera. Però negli ultimi dieci anni, diciamo, le manifestazioni non erano, diciamo, ben viste, non erano grandi, diciamo, come sono attualmente. Sono usciti i palestinesi anche in Israele, questo è anche molto importante, contro l'espulsione delle famiglie palestinesi a Sheikh Jarrah. E addirittura alcune palestinese che potevano andare a Sheikh Jarrah e a Jerusalem Mes sono andate là per aiutare le famiglie a difendere le proprie case contro i coloni israeliani. Però ovviamente ora l'esercito israeliano ha impedito altre palestinesi di entrare là, solo che i coloni israeliani possono entrare e per, diciamo, infastidire le famiglie di Sheikh Jarrah. Le manifestazioni erano importanti e poi c'era un evento molto importante il 16 maggio dove la gente del 48, cioè palestinese in Israele, hanno deciso di fare uno suo opero. Uno suo opero nei paesi oppure negli cittadini in Israele non viene fatto da tanto tempo comunque. Era molto importante che ha portato a tanti, diciamo, vendite economiche per il governo israeliano. E poi anche le città indisgiordani hanno partecipato a questo sciopero generale contro la politica del governo sinistra. Il governo israeliano era in una vera crisi, non poteva che fare, non sapeva ne teniamo che fare. non sapeva perché comunque quando vengono partecipate e fatti manifestazioni nelle città arabe di Israele ovviamente Netanyahu non può bombardare come fa Gaza perché ci sono anche i ebrei, non lo può fare. Anche se lui ovviamente ha risposto in maniera molto aggressiva, molto criminale arrestando, fino ad oggi sono più di 1500 palestinese arrestati, addirittura i coloni israeliani nelle città israeliane hanno attaccato un grande numero con la protezione della polizia israeliana tutte le case arabe, se loro vedevano gente arabe in strada l'attaccavano. Perciò questo ha portato i giovani palestinese in Israele a formare, diciamo, gruppi di autodifesa contro la polizia israeliana e contro i gruppi coloniali israeliani. Questo è anche un punto fondamentale per la lotta palestinese. Dunque, il 10 maggio però è stato anche un evento molto importante dove per i coloni israeliani, soprattutto quelli estremisti, loro lo festeggiano di un anno perché per loro è l'anniversario di occupare Gerusalemme. Scusate. Perciò loro si sono organizzati per andare a invadare la moschea dell'Aqsa, che è, diciamo, un luogo molto importante per soprattutto i fedeli musulmani. I loro estremisti e l'ebrei vogliono distruggere per motivi religiosi la moschea dell'Aqsa. Volevano invadare la moschea dell'Aqsa dove c'erano i fedeli palestinesi. Ovviamente sono scoppiati scontri tra i coloni e la polizia israeliana. Io dico sempre coloni e polizia perché i coloni israeliani sono protetti dalla polizia israeliana. Sono scoppiati scontri tra i giovani palestinesi e i coloni israeliani e poi la polizia è entrata dentro la moschea. E là c'erano scontri, diciamo, forti tra i giovani palestinesi disarmati e l'esercito anche israeliano. Perciò Hamas in quel tempo è entrata in linea su questo, su questo, in questa manifestazione, ha minacciato l'esercito israeliano se non vi riterate, non riterate le truppe sioniste della moschea dell'Aqsa, noi lanciamo dei razzi. Allora, per me, questo diciamo, più o meno, il governo israeliano era in crisi perché non poteva, non sapeva come rispondere a queste manifestazioni che erano attive in tutte le città palestinese, però quando Hamas ha lanciato i razzi della stessa di Gaza, questo, diciamo, ha dato un poco di luce al governo israeliano, dove lui ha giustificato tutti i suoi massacri contro il popolo palestinese, bombardando la stessa di Gaza, ammazzando più di 260 persone palestinese, tra cui ovviamente 40 bambini che sono meno grandi, purtroppo, e più di 16 donne e feriti sono tantissimi. e poi edifici interi hanno distrutto, più di 20 edifici hanno distrutto gli israeliani, quest'anno che è una guerra psicologica contro una popolazione grande che vive in un territorio molto piccolo. E poi, qua nei mass giornali italiani, purtroppo, scusate il termine, vediamo e leggiamo tante cazzate, dove dicono che c'è un conflitto tra i palestinesi e gli israeliani, dove c'è una guerra tra Hamas, che lancia i razzi e anche gli israeliani, e poi alcuni politici, che io non voglio dire nome con nome, non sono come conte, che dicono che l'Israele ha il diritto di autodifendersi. Ma autodifendersi di cosa? Facendo dei massacri contro il popolo palestinese, ammazzando i bambini palestinesi, distruggendo intere case, scuole, ospedali, mosse, anche, questo si chiama autodifendersi, difendersi significa fare più di 3-4 aggressioni in meno di 12 anni. Basta vedere, comunque, come diceva anche il compagno, basta vedere il numero di morti tra i palestinesi e i israeliani, poi non possiamo capire che non è un conflitto oppure un'aggressione, questo è un massacro. Contro il popolo palestinese. Questa è un'aggressione fascista, razzista, dal governo israeliano, contro una popolazione disarmata. Quella palestinese, ovviamente. Ovviamente noi non ci possiamo contare, non ci contiamo mai, su mass media occidentale, perché comunque noi sappiamo bene che sono controllate dai grandi poteri capitalisti. ora, c'è stato comunque, c'è stato il fuoco tra Hamas e Israele, però è bene che comunque il flusso di sangue contro il popolo palestinese è finito, in striscia di Gaza, però ancora, diciamo, il razzista di Hamas non ha risolto niente. Perché? Ancora, le famiglie, anche ora, mentre noi stiamo facendo l'assemblea, sono minacciati di essere espulsi ancora. Ancora il muro di Avert-Aid ancora c'è. Ancora insediamenti illegali in Palestina, ancora ci sono, ci sono più di 400.000 coloni illegalmente che stanno in Palestina, oltre ovviamente al territorio occupato nel 1948. Ancora i checkpointi tra le città palestinese ancora esistono. Ancora il gas sotto l'insediamento, più sotto l'assedio, più di 20 anni. più di 13 anni, scusate, 14 anni. A gas non c'è la corrente elettrica, la corrente elettrica ha solo per 6 o 4 ore. Non c'è neanche acqua pulita. Il tasso di disoccupazione è altissimo. Ancora non è cambiato niente, ancora la situazione attuale. Ancora la lotta c'è. Comunque la chef di Giorà ancora sono minacciati, anche sono minacciati altre famiglie palestinese e in altre quartiere a Gerusalemme. Perciò la lotta deve continuare. Però come mai noi palestinesi fino ad oggi, dopo 73 anni di lotta, non siamo riusciti a ottenere i nostri diritti? E la risposta è semplice, perché comunque i leadership palestinese dal 48 fino ad oggi hanno traditi comunque insieme ai governi arabi, che ovviamente è la OLP, l'Organizzazione della Liberazione Palestinese, è comunque stata sempre allieci finanziata e appoggiata dai governi arabi, e la massa palestinese è stata tradita. E soprattutto nel 93, la prima antifada palestinese, credo che voi sappiate bene quello che è successo nel 93, è stata tra le migliori evoluzioni nel mondo, comunque la prima antifada. Poi con l'accordo di Oslo, con l'ok comunque dei governi arabi, tra cui ovviamente Giordania e Egitto, hanno tradito la massa palestinese, anche i miei hanno partecipato alla prima antifada, loro mi dicevano, quando hanno sentito l'accordo di Oslo, c'era la delusione tra la massa palestinese, era grande comunque, perché l'accordo di Oslo non ha potuto realizzare i scopi veri della prima antifada, perché quelli che hanno solo andato a negoziare con gli israeliani non hanno partecipato alla prima antifada. Questo tradimento ha portato dal 93 fino ad oggi a aumentare il numero di insediamenti, ha portato a più sconfitte da parte dell'autorità palestinese, che era rappresentata ovviamente dal partito di Fateh, che Fateh sta portando fallimenti dopo fallimenti al popolo palestinese, perché Fateh ha tradito il popolo palestinese, ma anche i governi arabi hanno tradito il popolo palestinese, i governi arabi hanno tradito il popolo palestinese, non solo dal 93, ma anche prima, ma anche negli anni 20, anni 30, eccetera, e poi hanno normalizzato, ovviamente c'è stata una catena di normalizzazione, di rapporti tra i governi reazionari arabi con il governo israeliano partendo dall'Egitto fino ad oggi i mareti arabi di Bahrain e Marocco. George Havas, un compagno anche della fronte popolare, anche se non sono d'accordo con lui in tante cose, però lui ha detto una cosa molto importante ai popoli arabi, la cosa fondamentale, la cosa più importante che voi potete fare al popolo palestinese è lottare e rovesciare i vostri governi reazionali, che sono comunque alleati con il governo israeliano. Perciò è importante comunque, la questione palestinese non riguarda solo il popolo palestinese, ma riguarda tutta la classe lavoratrice nel Medio Oriente. Perciò è importante anche rovesciare i governi reazionari, che non rappresentano più la volontaria opinione della massa dei popoli arabi. Dove noi sappiamo come il governo arabo, oggi sono alleati con il governo israeliano, però anche la massa e la popolazione araba è il contrario a questo, perché loro sono scesi nelle piazze in solidarietà alla Palestina del primo giorno quando loro hanno sentito la questione di Shekharba, in solidarietà e per sostegno al popolo palestinese. Ma non solo, ma non solo qui nel Medio Oriente, ma anche in tutto il mondo, e anche in Italia, abbiamo visto tantissime manifestazioni a favore della Palestina in solidarietà alla Palestina e questo rappresenta, diciamo, la vera volontà del popolo anche italiano. Poi non possiamo dimenticare quello che hanno fatto i lavoratori a Livorno, a Napoli, che hanno rifiutato di caricare di caricare gli armi in Israele. Poi quando ci dicono nel sistema capitalista che il governo o il Parlamento comunque rappresenta la volontà del popolo, questo è una grande cazzata. Perciò noi diciamo sempre che la classe lavoratrice comunque dovrebbe prendere il potere, perché solo la classe lavoratrice può sentire il dolore e l'impressione di altri popoli. Non possiamo contare comunque sull'amministrazione americana che solo ha portato danni tramite il suo capitalismo comunque alla questione del palestinese, ma non solo a questione del palestinese, ma anche a Arabe, all'Ira, alla Libia, eccetera. Perciò ora più che mai è importante l'unione della classe lavoratrice non solo nel Medio Oriente, ma anche in tutto il mondo. Perciò noi siamo internazionali, noi siamo nazionalisti. Ora in Palestina c'è un punto molto importante nella nostra storia, perciò anche il compito di marxismo dei palestinesi è costruire un'alternativa al FATEH, che comunque conta sull'amministrazione americana per la soluzione abbiamo visto i risultati che sono solo fallimenti, ma anche dobbiamo ricostruire un'alternativa a Hamas, che comunque un gruppo militare non può portare la liberazione della Palestina, perché noi non è che siamo con o contro la resistenza armata o non armata, noi siamo e la resistenza è un diritto sacro per il popolo palestinese, anche per tutti i poveri neopressi, però è importante far coinvolgere tutta la massa palestinese. Perciò ora il nostro compito è fare un partito alternativo ai partiti che esistono in Palestina, ma non solo di coinvolgere la classe lavoratoria palestinese, ma anche quella israeliana, perché noi abbiamo visto alcuni ibrei anche se sono una minoranza che hanno manifestato insieme a palestinese contro l'occupazione e contro il governo razzista di Nataliaco, che Nataliaco attualmente comunque è in crisi, è in una vera crisi, perché hanno fatto quattro reddizioni e lui non ha potuto comunque formare un governo, perciò noi dobbiamo sfruttare questo fatto, le manifestazioni devono continuare e la solidità della classe lavoratrice in tutto il mondo comunque deve continuare e ora anche è molto fondamentale per costruire questo movimento oppure diciamo partito di classe di classe di massa che rappresenta comunque la volontà della classe lavoratrice e costruire uno stato socialista e non una federazione socialista in tutto il mondo e il Medio Oriente perché noi crediamo loro avete di nuovo che la questione palestinese comunque è collegata in maniera diretta alla questione di tutti i popolarvi nel mondo perciò è importante anche riusciare tutti i regimi arabi e costruire in tutte queste zone i paesi socialisti in una federazione socialista io concludo qua ci mostro un po' tanto voglio mandare un saluto a tutti i palestinesi che attualmente o comunque stanno lottando contro i coloni contro l'esercito di occupazione su ministra per ottenere i loro diritti oggi sono stati più di 500 500 palestinese arrestati nei territori e nelle città palestinese oppure città dove ci sono orbi in Israele perché loro hanno partecipato allo sovere alla manifestazione contro il governo israeliano un saluto a loro un saluto a tutti e a tutte le gente oppressa e vi ringrazio sono io che ringrazio molto George per questa sua per questa sua introduzione è molto utile credo per aprire questa la nostra discussione allora per primo lascio la parola a Franco Bavila che parlerà per un quarto d'ora circa sto ricevendo già diverse richieste di intervento per cui chiederei a chi vuole parlare di segnarsi in modo da vedere se riusciamo a lasciare la parola a tutti quelli che lo richiedono e lascio la parola a Franco Rego dovresti essere con la voce vai sì ciao a tutti innanzitutto ringrazio anch'io George per questa introduzione che ha fatto che è stata molto utile ed è riuscita veramente a toccare tanti aspetti dalle origini della questione palestinese fino ai problemi più urgenti che ci sono che ci sono oggi e credo che innanzitutto abbia centrato il punto essenziale che è quello che a noi qui non interessa tanto parlare dei missili dei bombardamenti eccetera l'aspetto che è decisivo in questi ultimi avvenimenti è stata la mobilitazione dei palestinesi che è stata qualcosa di veramente eccezionale e peraltro non è un fenomeno isolato a livello internazionale noi vediamo che a livello mondiale una crisi diffusa che provoca una serie di esplosioni di mobilitazione l'abbiamo viste in altre parti del mondo in America Latina eccetera ma l'abbiamo viste anche in Medio Oriente poco tempo fa abbiamo visto manifestazioni di massa in Libano abbiamo visto manifestazioni di massa poco tempo fa in Iraq che andavano esattamente contro quei regimi arabi con quelle caratteristiche reazionarie di cui parlava Giorgio e devo dire che la lotte che abbiamo visto oggi in Palestina si inseriscono in questo percorso certo c'è anche la questione dell'oppressione nazionale che è fondamentale ma ci sono anche le condizioni di vita e l'ha spiegato Giorgio quali sono le condizioni di vita nei territori palestinesi disoccupazione di massa povertà di massa umiliazioni continue da parte delle forze israeliane che circondano e controllano militarmente questo tipo di insediamenti e problema anche veramente appunto ad avere le risorse più più banali anche semplicemente l'acqua acqua potabile e questa situazione invivibile se ne potrebbero raggiungere tante vogliamo parlare per esempio della questione del covid qua in italia ci hanno giustamente presentato israele la sua campagna record sui vaccini il primo paese del mondo allo stesso tempo qua c'è stata una discriminazione totale dove non hanno dato quasi nulla alla popolazione palestinese dove la situazione della campagna vaccinale è rimasta completamente indietro israeli ha dato vaccini in mezzo ma non ha dati ai palestinesi e si è visto appunto la situazione che c'è quindi discriminazione veramente a tutti i livelli e questo ha determinato un'esplosione di fronte alle ennesime proteste di fronte a questa gente che veniva cacciata dalle sue case ma lui l'ha spiegato cioè l'aggressione contro le moschee chiudere gli accessi alle moschee durante le festività religiose le manifestazioni degli estremisti di destra nei quartieri musulmani di Gerusalemme che erano una provocazione su una serie di cose e questo ha determinato una risposta che non è stata la risposta dei missili di Hamas ma è stata una mobilitazione spontanea con giovani soprattutto senza che ci fosse nessuna organizzazione che l'abbia promossa che l'abbia lanciata ma sono state un'esplosione come quelle che abbiamo visto in altre parti del mondo e sono state le lotte più efficaci che hanno anche messo hanno preso in contropiede in parte l'apparato repressivo israeliano l'hanno messo maggiormente in difficoltà e queste lotte appunto le abbiamo viste estendersi anche e questo è una cosa un elemento di novità anche nelle città israeliane quindi non solo nei territori palestinesi ma anche nelle città dove anche qui c'erano state delle aggressioni da parte di forze di estrema destra sioniste che avevano aggredito la popolazione palestinese anche in queste città anche in questi quartieri e c'è stata una risposta c'è stata una mobilitazione anche in queste città che è culminata con questo grande sciopero generale che appunto ha coinvolto i territori palestinesi ma anche la popolazione araba all'interno di Israele dove sappiamo che comunque c'è una c'è un grande numero di abitanti israeliani che sono arabi arabi israeliani e che hanno partecipato attivamente a queste mobilitazioni e questo ha dato è stato decisivo nel determinare l'esito di quello che è accaduto dopo che sono iniziati i bombardamenti a un certo punto c'è stato si parlava della possibilità di un'invasione di terra della striscia di Gaza e quando hanno dovuto fare questi ragionamenti questa opzione è stata scartata non per spirito umanitario nel 2014 hanno invaso la striscia di Gaza provocando migliaia di morti se oggi non l'hanno fatto è perché avevano paura di quello che stava accadendo in Israele come ha detto un conto è bombardare i territori palestinesi un conto è quando scoppia la mobilitazione anche nelle città israeliane questo fronte interno che gli è scoppiato improvvisamente ha fatto capire che si seguiva sulla strada della guerra se si procedeva con l'invasione terrestre eccetera questo avrebbe comportato una serie di problemi avrebbe comportato una guerra civile nelle città israeliane con ebrei arabi da una parte gli uni contro contro gli altri e quindi questa mobilitazione ha avuto un ruolo decisivo nell'impedire che ci fosse un ulteriore escalation dell'intervento militare e quindi è stata veramente una una mobilitazione straordinaria e da questo punto di vista il fatto che della campagna di missili lanciata da Hamas concordo con quello che diceva non è che abbia aggiunto qualcosa alla lotta anzi per certi aspetti è stata l'occasione che il governo israeliano preso anche in contropiede dalla mobilitazione di Hamas ha potuto sfruttare la campagna di missili di Hamas per lanciare i bombardamenti e per avere la scusa per poter fare questo tipo di questo tipo di azione però appunto quello che è stato importante è la mobilitazione che c'è stata nel periodo precedente e da questo punto di vista è utile entrare un po' di più nel merito di quello che diceva George sui limiti della leadership palestinese perché su questo è vero c'è molto da dire a me ha colpito molto che appena prima che scoppiassero queste mobilitazioni erano state annullate le elezioni nei territori palestinesi era dal 2006 che non si votava nei territori palestinesi palestinesi e i leader dell'NP dell'autorità nazionale palestinese hanno rinviato a data da destinarsi le elezioni che dovevano tenersi a maggio dicendo sostanzialmente che Israele non gli consentiva di votare anche a Gerusalemme est quindi senza votare a Gerusalemme non si potevano fare le elezioni questo dimostra il tradimento la capitolazione che c'è stata da parte della direzione nazionale dell'autorità nazionale palestinese nei confronti di Israele che di fatto sono veramente una forza collaborazionista che siccome Israele dice di no allora noi non possiamo fare questo tipo di azione perché probabilmente delle elezioni avrebbero rimesso in discussione una serie di cose c'erano delle liste alternative che si stavano presentando e che avrebbero potuto raccogliere dei voti e questo percorso però lo si è bloccato e di fatto il governo perlomeno quello in Cisgiordania sicuramente per mantenersi al potere dipende più dall'appoggio che gli dà di essere l'interlocutore di Israele che del riconoscimento che c'è tra le masse in particolar modo tra i giovani perché alcuni di questi si vantano di essere vecchi combattenti della lotta di liberazione però da quegli anni è passato molto tempo e molti di questi giovani non li hanno visti lottati li hanno visti solo governare amministrare questa situazione disastrosa all'interno della Cisgiordania e degli altri e degli altri territori e anche questa cosa di Hamas però che si pone come un'alternativa e sicuramente oggi è una forza più popolare più riconosciuta tra i palestinesi però va detto che appunto questa campagna di missili può servire sicuramente per dimostrarsi come una forza più combattiva e acquistare un certo consenso tra i palestinesi però non è in grado di scalfire la macchina militare israeliana anzi come ha detto prima Giorgi il governo che è vero questa cosa che Netanyahu lo presentano come se avesse tutti gli israeliani dietro ma in realtà è vero che si trova in una situazione di debolezza non era riuscito a formare una maggioranza in Parlamento e già avevano dato l'incarica un altro per formare un governo senza di lui senza il suo partito all'interno di Israele in più lui c'ha pure dei processi addosso per scandali di corruzione vari e appunto non è stato in grado di formare una maggioranza e si trovava in una posizione di debolezza e per questo è anche costretto ad appoggiarsi sempre di più all'estrema destra al movimento dei coloni che è gemolizzato dall'estrema destra per cercare di mantenere un po' di consenso e sicuramente questa campagna missilistica lo ha aiutato a cercare di rimettersi in sella e di presentarsi come l'uomo forte che in qualche modo poteva risolvere la situazione ed è significativo quello che lui ha detto che la lotta è una lotta che si deve fare in tutto il mondo arabo per rovesciare dei regimi che non sono in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze della popolazione araba ma che all'interno di questa lotta ci deve necessariamente essere anche la classe lavoratrice israeliana e credo che questo è un aspetto importante anche qui Israele viene sempre presentato come un unico blocco reazionario come se appunto il governo avesse il pieno controllo totale della 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 situazione però ci sono gli elementi reazionari in Israele c'è il governo c'è il movimento dei coloni che è gemolizzato dall'estrema destra ci sono questi gruppi semifascisti che hanno aggredito i palestinesi ma c'è ma viva Dio c'è anche dell'altro esiste una classe lavoratrice c'è un movimento di giovani e l'unica maniera per poter risolvere l'impatto è quella che la macchina militare israeliana venga bloccata dall'interno che ci sia una spaccatura su basi di classe all'interno di Israele che ci sia una mobilitazione contro il governo reazionario di Israele e che e che questo crei le basi perché appunto all'interno di questa lotta comune vengano espropriate quelle che sono le risorse economiche di tutta la regione e vengono messe a disposizione della loro popolazione e che solo grazie a queste risorse economiche nazionalizzate pianificate socializzate si possa creare appunto le condizioni per poter che tutti i popoli in quella regione abbiano il diritto alla propria autodeterminazione ad avere una propria terra all'interno di quella regione in una federazione socialista del migliore questa battaglia è importante può sembrare una cosa strata ma non è poi così impossibile anche a me ha colpito ho visto le immagini di una manifestazione a Tel Aviv fatta in questi giorni con ebrei e palestinesi assieme per la convivenza poi è logico magari aveva anche dei limiti questa manifestazione però che abbiano manifestato assieme a Tel Aviv è una cosa importante che dimostra che appunto non c'è solo nazionalismo razzismo ma che c'è un'altra forza che viene dal basso che viene dalla classe lavoratrice che può rappresentare una un'alternativa non dimentichiamoci che durante la seconda intifada c'è anche soldati israeliani che si erano rifiutati di andare a combattere e all'interno dei territori occupati non dimentichiamoci che nel 2011 quando ci sono state le primavere arabe ora poi che dove ci furono mobilitazioni enormi in tutta una serie di paesi arabi che poi purtroppo a causa di una mancanza di direzione non hanno potuto portare effettivamente ad una vittoria nel 2011 anche in Israele ci sono state mobilitazioni di massa di giovani di lavoratori che rivendicavano maggior giustizia sociale contro i tagli allo sociale per migliori condizioni di vita salari più alti si rivendicavano questo tipo di cose quindi anche lì è possibile impostare una lotta su basi differenti però è importante che appunto si creino quelle forze di classe di cui parlava Giorgio quelle forze in grado di offrire un'alternativa a questo impasse che c'è e appunto l'unica alternativa è una prospettiva internazionalista di classe che si basi sui lavoratori della zona indipendentemente dalle loro origini dalla loro religione dalle loro origini nazionali e che mettono in campo una lotta comune contro tutti i regimi contro tutte le classi dominanti che hanno provocato un vero e proprio incubo in quella regione per lungo tempo ma naturalmente questo deve necessariamente passare in primo luogo per la fine dell'occupazione la fine della repressione la fine della oppressione nazionale da parte dello Stato e del governo israeliano nei confronti delle popolazioni nei territori quello è il primo passo per poter creare tutto questo senza di quello non si può arrivare a nessun tipo di soluzione a nessun tipo di soluzione e credo che per quanto questa sia una strada complessa e difficile gli avvenimenti anche che stanno accadendo la mobilitazione che vediamo in una serie di paesi rappresenta la speranza principale per poter uscire da questo impasse e per poter creare appunto condizioni di vita differenti dove appunto ogni popolo all'interno di una federazione all'interno di una economia dove sono i lavoratori a poter gestire le risorse di tutta la regione questo potrà creare basi differenti e per questo dobbiamo batterci e dobbiamo dare in tutti i paesi del mondo la massima solidarietà a questo tipo di ipotesi e devo dire che le manifestazioni che sono viste in Italia ma anche in altre parti del mondo erano qualitativamente diverse dalle manifestazioni di solidarietà con la Palestina che c'erano magari qualche anno fa dove c'era un po' di ritualità in questa manifestazione queste nuove manifestazioni cadono in un contesto diverso e diverso perché anche la gente negli altri paesi in Italia in Inghilterra dove ci sono state queste manifestazioni c'è una rabbia tra i giovani e questi giovani come sono indignati per le condizioni che vivono nel loro paese sono ancora di più indignati a vedere come viene trattato in maniera indegna un popolo e come questo popolo sta portando avanti una lotta eroica questo colpisce moltissimo e si inserisce quindi in un percorso di radicalizzazione che stiamo vedendo in particolar modo tra i giovani anche in altre parti del mondo e anche qua in Italia credo siano state alcune delle manifestazioni più importanti tenendo conto che si svolgevano in un periodo in cui ancora c'era il lockdown e quelle cose lì per cui da questo punto di vista appunto questa prospettiva internazionalista dimostra di non essere una cosa astratta ma di cadere in un contesto particolarmente fertile e mi fermo qua grazie a tutti ok grazie grazie mille a Franco allora adesso chiederei a quelli che interverranno da adesso in poi di stare nei dieci minuti perché così dovremmo riuscire a stare nei tempi perché facendo un attimo il calcolo dei tempi la lista direi che è completa il primo a intervenire adesso è Jamil El Sadi spero di aver pronunciato correttamente che fa parte di Our Voice e che ringraziamo di essere qui e gli lascio la parola dopo di lui si prepara Andrea Davolo ti do subito la voce prego si perfettamente buonasera a tutti grazie a voi dell'organizzazione per averci invitati per avermi invitato per aver invitato il mio movimento Our Voice appunto io mi chiamo Jamil El Sadi sono un ragazzo italo-palestinese e ringrazio quelli che mi hanno preceduto per le loro parole per le loro analisi che sicuramente sono state analisi tecniche precise puntuali che mi hanno a mia volta informato ancora di più nonostante io vado in Palestina da quando avevo otto anni quindi ne ho 22 nonostante sia molto giovane ma con mio padre con mio fratello siamo sempre andati in Palestina abbiamo sempre vissuto fin da bambini quella che è l'apartheid palestinese e per questo lo testimoniamo sono un aspirante giornalista sono un redattore della rivista Antimafio 2000 quindi scrivo anche di ben altro ma all'interno della rivista copro anche l'informazione del settore degli esteri quindi scrivo di cronaca interna di cronaca di stampo giudiziario ma anche di geopolitica internazionale sono qua per dare la mia testimonianza sono molto d'accordo con quello che è stato detto da Franco Bavila dallo stesso George sul fatto che quelle di pochi giorni fa di questi giorni sono manifestazioni molto diverse da quelle passate sono manifestazioni come diceva Franco Bavila che sono state spinte dai giovani da giovani ragazze e ragazzi di tutta Italia noi come Our Voice collaboriamo a stretto contatto a stretto giro con il gruppo del GP i giovani palestinesi d'Italia con Assopace Palestina con Gaza Freestyle con Handala con il BDS con tanti movimenti che difendono la causa palestinese sotto vari fronti sotto vari tipi di aspetti sono qua per dare la mia testimonianza in quanto giovane palestinese che non si accontenta di un di un cessate il fuoco come penso un po' tutti voi presenti perché stiamo parlando a io sto parlando a persone che sono sicuro la pensano come me e siamo sulla stessa linea di pensiero un cessate il fuoco che è pura retorica un cessate il fuoco che non ha fatto altro che alimentare la propaganda filozionista in particolar modo dei mass media dei grandi mainstream della politica italiana lasciamo perdere quella internazionale ma in particolar modo quella italiana perché hanno cessato tutti di parlare di Palestina e questo non è possibile perché cessate il fuoco non significa cessate l'apartheid cessate il fuoco non significa cessate le detenzioni amministrative a danno di migliaia e migliaia di minorenni cessate il fuoco non significa cessare l'usurpazione dei territori palestinesi la costruzione di insediamenti illegali nella West Bank e nella Cisjordania e la detenzione dei beni primari quindi acqua, luce, gas ed economia quindi forza lavoro all'interno della stessa di Gaza e non solo anche nella West Bank prima sentivo parlare delle manifestazioni come manifestazioni nuove è verissimo sono state manifestazioni nuove perché sono state manifestazioni in cui per la prima volta la generazione del 48 e la generazione del 67 quindi chi ha vissuto l'esodo del 48 e coloro che hanno vissuto il secondo esodo del 67 erano per la prima volta unite fateci caso a una cosa vi invito a far caso a una cosa fino a quando la problematica tra virgolette la questione era limitata non per svilire il fatto ma era circoscritta agli eventi di Sheikh Jarrah e agli eventi delle proteste per la spianata delle moschee i nostri media mainstream e la nostra politica parlava dei piccoli scontri fra due o tre palestinesi insieme contro i soldati nelle postazioni nelle pensiline degli autobus alla periferia di Gerusalemme piuttosto che gli scontri nella periferia di Ramallah piuttosto che gli scontri in un altro posto quando poi hanno istigato talmente tanto i palestinesi da provocare la reazione militare di Hamas che non condivido perché come prima sentivo e appoggio il discorso di prima la risposta militare che non posso condannare perché appunto è stata istigata ma la risposta militare di Hamas non ha giovato a nostro favore è stata istigata e da lì e soltanto da lì la grande il grande mainstream internazionale e anche del nostro paese ha parlato di Palestina ha parlato di conflitto ha parlato di guerra accaparrandosi addirittura il diritto che non è un diritto ma un errore gravissimo di chiamare i bambini morti nella striscia di Gaza terroristi questa è una cosa inaccettabile quindi ricollegarmi al fatto che il cessato e il fuoco non basta perché non basta perché poche ore prima del cessato e il fuoco dell'accordo mediato tramite l'Egitto sono continuati i bombardamenti nella striscia di Gaza il giorno successivo al cessato e il fuoco in realtà poche ore dopo aver firmato e stipulato il cessato e il fuoco le forze di polizia sioniste sono subentrate all'interno della spenata delle moschee e hanno represso nuovamente i palestinesi e nessuno ne ha parlato della stampa internazionale particolarmente della stampa italiana quindi ci troviamo di fronte a una connivenza e a un volersi accontentare di un accordo fra le due parti due parti che io sono molto d'accordo con quanto è stato detto prima due parti che per la prima volta hanno avuto il pericolo hanno provato veramente il timore di essere despotate di essere defenestrate e sto parlando della fazione sionista di israele non parliamo solo dello stato di israele noi come our voice giovani palestinesi d'italia gaza freestyle stiamo instaurando un nuovo tipo di linguaggio perché dobbiamo cambiare la dialettica non è lo stato di israele ma è l'entità sionista cioè lo stato di israele e tutti i paesi le lobbying il mondo economico il mondo politico e dell'informazione che è filo sionista quindi l'entità sionista era in pericolo e poi arriviamo al perché e anche l'autorità nazionale palestinese era in pericolo anche Hamas era in pericolo perché per la prima volta dopo tantissimi anni il popolo palestinese era veramente unito perché per la prima volta le insurrezioni popolari l'intifada popolare non violenta cioè quella che risponde con le barricate quello che risponde con i sassi alle bombe ai fumogeni era per la prima volta unita perché c'erano manifestazioni all'interno dei territori palestinesi in Cis Giordania così come c'erano migliaia e migliaia di israelo palestinesi di arabi israeliani ovvero palestinesi all'interno dei territori israeliani con la doppia cittadinanza che protestavano questo ha dato manforte al popolo palestinese fino a quando poi non sono partiti i bombardamenti da Hamas e le risposte naturalmente di tutt'altro tipo perché non stiamo parlando di risposte in ugual misura ma stiamo parlando di ecidi genocidi efferati e barbarie consecutive a spiano da parte di Israele ma era in pericolo erano in pericolo le due fazioni principali cioè l'entità sionista e anche alcune autorità palestinesi perché per la prima volta il popolo era unito e il popolo deve essere unito i giovani avevano la parola a livello internazionale e su quell'onda lì il mondo ha risposto con manifestazioni in Italia a Chicago a Dhamman a Berlino tutte quelle che voi avete visto chiudi dicendo una cosa perché appunto il tempo non è a favore non è il mio favore perché ormai è scaduto la cosa su cui adesso dobbiamo concentrarci e su cui noi come giovani palestinesi ci concentreremo nei prossimi giorni nei prossimi mesi ed ora in avanti sempre di più è su atti pratici non possiamo dare spazio soltanto alla rabbia dare spazio soltanto agli slogan dare spazio soltanto alle manifestazioni dobbiamo contestualizzare tutto quell'attivismo tutta quella partecipazione civile su atti pratici in primis da parte dei cittadini e in secondo da parte dello Stato attraverso azioni pratiche come il boicottaggio il disinvestimento le sanzioni cioè iniziare delle campagne di informazioni affinché il nostro paese noi con la nostra finanza con la nostra economia non finanziamo l'entitazionista che non solo bombarda anche se adesso ha smesso ma continua a reprimere i palestinesi continua a detenere i corpi dei palestinesi uccisi perché presunti terroristi mio cugino è stato ucciso due anni fa e la mia famiglia ancora non può avere il corpo di mio cugino perché è considerato un terrorista mio cugino non era un terrorista mio cugino è stato ucciso perché portava un vasetto di olive alla nonna al checkpoint di Tulcarem ed è stato barbaramente ucciso con 19 colpi di M16 e ancora noi aspettiamo lo suo corpo e come me come mio cugino tantissimi migliaia di persone in palestina sono così quindi noi dobbiamo iniziare una campagna ferrea duratura nel tempo costante attraverso i giovani e le giovani palestinesi e non solo attraverso movimenti come il BDS il GPE Gaza Freestyle Our Vice e tanto altro affinché il nostro governo il nostro Stato smetta di finanziare quell'entità sionista lì e smetta di essere un paese filo sionista che paradossalmente paradossalmente è filo sionista sia la nostra sinistra se così si può chiamare sia la nostra destra la stessa destra che insultava gli ebrei è filo sionista la stessa destra che reprimeva con l'ideologia fascista e neofascista la diversità l'etnia è diversa quindi viviamo in un mondo in un momento storico in cui l'Italia è veramente controversa e noi non possiamo cavalcare quell'ondale dobbiamo ribellarci pacificamente attraverso azioni pratiche attraverso il sostegno che non sia soltanto la manifestazione ma un cambio di vita un cambio di stile di vita e chiudo dicendo una cosa il fatto che il conflitto israelo-palestinese continua se così possiamo chiamarlo conflitto anche perché lì pure ci sarebbe da disquisire parecchio ma il fatto che continui da oltre 73 anni è perché non solo il nostro problema cioè il problema il problema di noi palestinesi è lo stato israeliano e quindi l'entità sionista ma anche perché il problema dei palestinesi è il governo palestinese è la corruzione che c'è all'interno del governo palestinese è il fatto che le giovani generazioni non vengono espresse non si riconoscono all'interno dell'autorità nazionale palestinese odierna che da un anno e qualche mese deve lasciare il presidente palestinese deve lasciare la sua carica è un popolo il nostro che si riconosce su personaggi come Marwan Barghuti su rivoluzionari giovanili che cavalca l'onda del che cavalca l'onda dell'attivismo di Ahetamimi di una ragazza giovane di 18 anni che riesce a tirare fuori a cacciare fuori i soldati israeliani dal suo territorio da casa sua è quello l'esempio in cui noi palestinesi donne uomini che siano bambini o meno che siano ci riconosciamo in persone che parlano poco e fanno tanto e fanno tanto senza compromessi perché la lotta palestinese e voi tutti lo sapete è fatta di oppressi e oppressori e chi non si esprime è dalla parte degli oppressori e non dalla parte degli oppressi io mi ricordo un discorso e chiudo veramente scusate per essermi dilungato io mi ricordo un discorso di Arafat che fece all'ONU penso che tantissimi di voi se lo ricordano questo per far capire io che vado tantissimi tantissimo tempo in palestina da tantissimi anni come penso tanti di voi siano già stati e che vadano tuttora io mi ricordo un discorso di Arafat che vive nei cuori delle persone ancora oggi quando parlo con la gente palestinese con il popolo palestinese e il discorso di Arafat era quello del ramoscello di olivo dove dice io tengo nella mano sinistra l'arma della pace l'arma della rivoluzione e nella mano destra il ramoscello di olivo non instigate il popolo resiliente resistente della palestina affinché non cade non debba cadere il ramoscello di olivo perché sarà la seconda mano ad imbracciare l'arma della rivoluzione per difendersi è questo che fanno è questo che cercano di fare sempre provocarci e chiudo veramente attenzione alla ciclicità del tempo prima sentivo Giorgio ad esempio che faceva un discorso storico perfetto nel 2000 nei primi anni 2000 ci fu la seconda intifada guardate la ciclicità del tempo pochi anni dopo ci fu l'operazione Piombofuso siamo a cavallo fra il 2008 e il 2009 tregua altrettanti anni dopo l'operazione Protective Age io ero in Palestina per l'intera operazione ho vissuto quelle immagini che tutti oggi noi in tutto questo periodo noi abbiamo visto tramite i social e pochi anni dopo ancora ci ritroviamo nel 2021 a vivere un'altra operazione operazione genocidio comunità internazionali si esprime tregua operazione genocidio comunità internazionali si esprime tregua sempre così questo perché non c'è la volontà politica da entrambe le parti non parlo del popolo ma parlo delle istituzioni di trovare un accordo unico per fare pace per trovare una soluzione e noi come popolo giovanile non giovanile dobbiamo andare avanti affinché la pace si trovi e noi dobbiamo ribellarci a questo sistema criminale perché è un sistema criminale grazie ringrazio molto per questo intervento Jamil allora dopo di lui c'è Andrea Davolo e chiederei di prepararsi dopo Andrea a Samira Aji sì nel mio intervento vorrei concentrare un attimo l'attenzione su quello che è avvenuto anche in questi giorni in queste settimane esprimere la propria critica sono solo io che l'ho perso anti-semitismo chi lo fa senza dubbio l'obiettivo di attaccare sì ti abbiamo perso dopo poco che parlavi non so se sì mi senti per provare se no magari se ti perdiamo di nuovo forse è meglio il video adesso riprova anche con vai ok dicevo anche in questi giorni in queste settimane abbiamo sentito specialmente dai mass media dai giornali provenire l'accusa di antisemitismo nei confronti di chiunque provasse a sviluppare la propria critica nei confronti della politica espansionista dello Stato di Israele con l'obiettivo esplicito di attaccare chi esprimeva solidarietà nei confronti del popolo palestinese penso che recuperare un po' di chiarezza su cosa sia stato anche storicamente il sionismo sulla sua sul suo carattere sia importante anche perché questa è questo è un punto è un'accusa che viene rivolta che ho visto disorientare anche molti attivisti giovani giovani e giovanissimi questo nell'ultimo periodo appunto come dicevo esprimere opposizione alle politiche di Israele denunciarle il carattere imperialista delle sue aggressioni militari abbiamo visto come per una larga parte dei media significa esprimere una posizione antisemita ovvero sia ostilità a pregiudizio razzista verso gli ebrei spesso il sionismo viene descritto come una politica che afferma il diritto all'autodeterminazione da parte del popolo ebreo ma questo emerge come progetto politico solo verso la fine del XIX secolo e comunque non è mai stato in effetti un progetto che era intrinsecamente legato alla fede ebraica in realtà molti gruppi ebraici e non solamente laici anche religiosi in tutto il mondo non si sono identificati e oggi non si identificano tutt'oggi come sionisti difatti noi sappiamo che per molti secoli gli ebrei di tutto il mondo hanno subito una persecuzione esasperata gli ebrei erano presenti in tutte le città d'Europa gli ebrei erano sottoposti sono stati sottoposti a violenti attacchi che nella Russia zarista per esempio prendevano il nome di pogrom durante i quali appunto i loro quartieri venivano bruciati le persone assassinate massacrate è chiaro che in questo contesto si poneva il problema politico di come andasse risolta la cosiddetta questione ebraica cioè come emancipare come liberare il popolo ebraico da questa oppressione secolare tuttavia il sionismo ovvero l'idea di creare uno stato ebraico in terra di Palestina era solo uno dei progetti politici che provavano a dare una risposta a questo problema e in realtà il sionismo era inizialmente anche scarsamente sostenuto da parte degli ebrei in Europa per esempio questo perché la seconda internazionale era dotata di partiti socialisti di massa che organizzavano gli stessi lavoratori ebrei nella lotta per il socialismo e invece di separare appunto gli ebrei dalla classe operaia i lavoratori ebrei da questa lotta come affermava il sionismo i partiti socialisti organizzavano quello che era un desiderio istintivo che i lavoratori che anche i lavoratori ebrei avevano per l'unità di classe al contrario il movimento sinistra era un movimento sostenuto da ricchi ebrei e si poneva chiaramente come un'alternativa alla crescente popolarità del socialismo tra le masse ebraiche ed era quindi rappresentava quindi una soluzione capitalista al tema dell'emancipazione del popolo ebraico il sionismo anziché porre appunto la questione di un movimento sociale che mirasse all'eliminazione della radice di ogni oppressione cioè dell'eliminazione della società rivise in classi cercava invece una soluzione separatista un po' sulla falsa riga di tutto quello che è la storia del nazionalismo borghese quindi poneva questo diritto all'autodeterminazione diritto ad avere una terra per il popolo ebraico ora è vero che i marxisti hanno sempre sottolineato come il diritto all'autodeterminazione fosse una richiesta democratica fondamentale però ogni lotta nazionale per l'autodeterminazione può essere progressista ma questo dipende da alcune circostanze concrete cioè soprattutto da quanto questa lotta per l'autodeterminazione di una nazione promuove oppure ostacola la causa dei lavoratori in tutto il mondo ora il punto è che prima del 48 una nazione ebraica nel senso tradizionale del termine non esisteva al popolo ebraico mancava un territorio mancava una lingua quindi questa autodeterminazione non poteva essere ottenuta attraverso l'indipendenza territoriale al contrario richiedeva la migrazione rimasta degli ebrei in un territorio che appunto avrebbe significato la creazione di un nuovo stato di nuovi confini e soprattutto avrebbe significato la cacciata degli arabi dalle loro terre dalle loro case e la loro sostituzione con i migranti ebrei e chiaramente non c'era nulla di progressista in questa politica razzista che serviva semmai solo a fomentare l'ostilità tra i lavoratori arabi e i lavoratori ebrei come anche ricordava George inoltre il progetto sionista era uno strumento nelle mani degli imperialisti in primo luogo con la dichiarazione Balfour nelle mani dell'imperialismo britannico che in questo modo voleva continuare ad avere il controllo del Medio Oriente e come previsto poi lo stato israeliano è diventato di fatti come sappiamo uno dei principali pilastri dell'imperialismo occidentale nella regione ora che dire il sionismo oggi cioè è chiaro che sebbene i marxisti si sono opposti alla creazione dello stato di Israele nel 48 è impossibile ora riavvolgere il nastro della storia da allora diverse generazioni di ebrei sono cresciute in Israele e quindi indipendentemente dal fatto che l'istituzione di Israele sia stata progressista o meno ora esiste una nazione ebraica in Israele con una lingua con un territorio questo significa che l'idea che gli ebrei dovessero essere buttati in mare come per esempio sostiene Hamas serve in realtà solo a rafforzare la morsa del sionismo sul popolo di Israele Israele non è un monolite la stessa società israeliana è attraversata da rotture al suo interno che chiaramente però rischiano di compattarsi ad ogni come dire deragliamento della rotta di massa sul piano militare da parte di Hamas abbiamo visto anche recentemente come appunto all'interno della stessa società israeliana possono crearsi dei movimenti che sono che possono mettere in discussione lo stesso la stessa classe dominante e gli obiettivi dell'apparato statale dell'apparato statale sionista e quindi il punto è quale soluzione quale soluzione è importante per i giovani i lavoratori palestinesi costruire dal punto di vista politico accennava accennava Giorgio alla corruzione ma anche il compagno che ha parlato prima di me alla corruzione delle burocrazie dei maggiori partiti dei partiti più rappresentativi del popolo palestinese questi sono partiti che non hanno fatto della lotta di classe la loro bandiera certamente non Hamas ma non più anche Fatah che sappiamo avere come origine essere un partito che ha origini socialdemocratiche ho letto come in vari settori del movimento giovanile palestinese si pone la questione della costruzione di uno stato binazionale anche di fronte al fallimento di fatti della prospettiva dei due stati per due popoli il punto è che noi crediamo e che anche uno stato poniamo in astratto uno stato più moderno più democratico comunque è binazionale in cui si sono riconosciuti uguali diritti di cittadinanza per tutti arabi ed ebrei comunque non rappresenterebbe una soluzione al conflitto innanzitutto perché nel contesto diciamo di crescita demografica della popolazione araba io credo che l'apparato statale ebraico la classe dominante dello stato di Israele non permetterebbe una transizione pacifica ad una soluzione del genere ma anche perché ci sarebbe pur ragionando in astratto di questa possibilità il rischio concreto che di un conflitto continuo per il controllo di un apparato statale che è stato attraversato nei decenni nei decenni da un conflitto etnico basti vedere a quello che a quello che accade per esempio ormai nei decenni nel vicino Libano dove appunto dove appunto vi è una continua lotta diciamo su basi etniche e religiose per il controllo dell'apparato dell'apparato statale quindi ogni soluzione vediamo sotto il capitalismo è comunque una soluzione che rischia di essere accompagnata da convulsioni da crisi da conflitti da conflitti continui la lotta la lotta di massa dei palestinesi è una lotta che chiaramente deve portare all'obiettivo della chiusura dello smantellamento dello smantellamento degli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania della riapertura dei confini della striscia di Gaza oggi un'enorme prigione a cielo aperto e il territorio assegnato ai palestinesi dovrebbe essere notevolmente ampliato per esempio anche nella vicina Giordania dove il 60% della popolazione è palestinese ma non possiamo pensare che sia possibile creare due territori completamente omogenei i diritti delle minoranze in ciascun territorio dovrebbero essere tutelati e questo può essere possibile solo in un contesto politico in cui vado a concludere e concludo in un contesto politico dove la cooperazione tra i diversi gruppi etnici presenti nella zona sia possibile e questo è possibile solo nella misura in cui le risorse e i mezzi di produzione vengono dati nelle mani dei lavoratori arabi ed ebrei noi crediamo che io credo che in alternativa sotto qualsiasi soluzione sotto il capitalismo come abbiamo osservato negli ultimi 70 anni non può essere altro che un incubo senza fine per le popolazioni del Medio Oriente terminato grazie grazie Andrea scusate se a un certo punto vi appaio ma perché abbiamo ancora un po' di interventi se no non stiamo nei tempi allora c'è Samira Agic che a cui apro subito il microfono in modo che possa parlare e dopo di lei si prepara Claudio Bellotti ecco buonasera buonasera a tutti ai compagni buonasera comunque io aggiungo solo qualche cosine che perché le compagnie prima hanno già accenato a tante cose importanti e faccio un flashback della cronologia che ha fatto George ma solo due cosine che per sottolineare anche per fare diciamo uscire queste cose possiamo dire per quando ho iniziato per riempire la terra della Palestina non dimentico degli ebrei di tutto il mondo parlo solo delle nostre regime arabi razionale che hanno spinto diciamo questo popolo ibrai per partire per riempire una terra che non è mecca loro allora quello che vediamo adesso quelle masse della gente della revisione che vediamo tutto in tutto il mondo la gente adesso ha capito la bugia degli israeliani di questo stato soionista del senso che loro dicono che la terra promessa per un popolo senza terra però non è che è vero perché anche gli ebrei che erano nei paesi arabi anche nei paesi della Russia avevano loro terra avevano loro case avevano loro attività quindi tutte queste cose sono scoperte parlo solo io della parte araba che sono io del Marocco parlo anche di queste cose allora come sappiamo tutti il Marocco e l'Iraq e l'Iemen che erano tante masse di ebrei che sono concentrati lì che sono spinti del governo a lasciare loro terra per andare diciamo a questa terra promessa che hanno promesso gli sionisti per loro e del Marocco come ho detto anche nell'intervento precedente anche quando sono intervenuta con tante interviste gli ebrei marocchini sono stati spinti e venduti venduti un accordo è stato fatto fra il re del Marocco e anche con i banditi sionisti e poi parli anche voglio sottolineare una cosa qua questo questo epoca qua il lavoro della sinistra della sinistra marxista che era attiva che era appena nata che erano lì nella piazza che impetiscono libera di lasciare diciamo la loro terra perché loro hanno vissuto con le marocchine hanno loro terre hanno loro latività loro tradizione loro priere quindi nessuno che ne hanno calciati via ma però adesso stanno tornando con la normalizzazione che è stato questo accordo che è stato fatto fra i regimi del Marocco e poi anche con con Israele una normalizzazione che è uscita fuori non è mica che non è mica stata perché prima c'è stata ma però sotto il tavolo però adesso tutto alla luce di tutto diciamo che è tutto chiaro che la normalizzazione è stata fatta e stanno tornando questi ibrei per tornare per chiedere la fratellanza chiedono la pace vogliono fare loro vita ancora diciamo nel Marocco costruire comprare a parte che diciamo che il primo consigliere del re è un seoionista e tutti lo sappiamo Andrea Zolai però voglio sottolineare il movimento del PDS al Marocco che lavora molto e questo movimento diciamo che è guidato da un ebrei marocchino che è stato nel carcere razionale che ha passato tanti anni per anche con Ibrahim Serfati diciamo Simon adesso a Sidona ancora diciamo vivo e lui che sta guidando questo movimento e sta dando il frutto di questo movimento e queste PDS sono in tutto il mondo tramite la Germania come sappiamo che non non lavora mica non è che non lavora non è stato impedito del del governo e parlo anche dell'elezione palestinese che sapeva anche dall'inizio che fanno saltare non saltare in la data non sappiamo quando e ultimamente è anche uscito Abu Mazin del discorso che le lezioni salteranno perché hanno impedito gli israeliani di farlo ma però si sa molto bene che vanno saltate a prescindere dalla guerra che è stata che è stata fino a fino a ieri fino a quando è stato accesso il fuoco e Abu Mazin diciamo che fa parte anche lui di Fath e come sappiamo anche noi Fath è divisa divisa come adesso anche Cilbaruti che è stato diciamo anche lui è entrato nelle le lezioni per le lezioni del palestinese e non dimentichiamo anche Khalida Jarrar del fronte popolare questa donna marxista e della sinistra adesso l'ho condannata di nuovo perché sempre le condannano a due anni e parliamo anche del partito diciamo di sinistra il fronte mi ha sfuggito un nome scusate con la con la con la con la missione allora vorrei anche partire da un'altra cosa la violazione che fanno gli israeliani che con con il popolo palestinese queste violazioni dei diritti umani che sono state denunciate ma però nessuno nessuno ne fa né sanzioni né niente agli israeliani sono sempre potenti sono sempre escono sempre fanno quello che vogliono e voglio parlare a questa sera per sottolineare un punto molto 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 delicato è quello dell'arresto e l'incarcelazione delle bimbe palestinese che è stato applicato dal 2014 diciamo dopo la è stato bruciato il bimbo Khalid bruciato vivo dalle colonie israeliane che è stato applicato l'arresto domicilio l'arresto amministrativo amministrativo ai bimbi e noi parliamo qua del codice militare 1651 e specialmente l'articolo 285 che si applica sulle minore le minore che fra 12 e 14 anni siamo qua parlando di una di una parte della classe molto vulnerabile il posto di bimbi e la scuola non le carcere e parliamo di un carcere molto molto pericoloso anche che si parla tanto è quello lì di Alt il Gellem il carcere che ha una profondità di tre piani sotto terra e quelli lì per i bimbi per farli per mettere le bimbi in isolamento è una cosa molto vergognosa è una cosa molto molto diciamo disumana e nessuno ne parla e vorrei dire soltanto un'altra cosa prima di chiudere come diceva Jamil e l'accesso del fuoco è stato fermo diciamo è stato fatto però non è mica detto che la l'occupazione è finita siamo ancora siamo ancora come dice anche Jamil se avremo ancora altri molti alti e i bassi di questa guerra infinita di questo di questo popolo veramente ha dimostrato che è molto coraggioso e poi possiamo anche guardare ma notare una cosa importante delle militari ma le militari israeliani che la paura che hanno avuto le paura che sempre ce l'hanno perché loro stanno difendendo una terra che non è mica loro e quelli lì l'importante perché loro davanti le palestinese sono dei topi che stanno scappando è vero che hanno le armi hanno tutti gli aiuti che prendono dei paesi arabi gli aiuti che prendono gli Stati Uniti però dimostrano sempre la paura perché la terra non è mica loro e vorrei chiedere o dire un'altra cosa per queste rivoluzioni che vediamo nelle piazze dobbiamo stare molto molto attenti perché adesso Hamas si vede che lei è molto leader e lei che fa tutto però anche nelle rivoluzioni che vediamo le reprise che vediamo c'è sempre infiltrazione dell'islam politico e questo qua è molto 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 pericoloso e dobbiamo stare attenti come sinistra e come sinistra che crediamo alla la democrazia alla alla dignità dei popoli alle nostre insomma dobbiamo stare molto molto attenti e grazie grazie mille Samira allora adesso c'è Claudio Claudio Bellotti vola qua ok e dopo Claudio se non sbaglio c'è e Zubair Lalawi ok perfetto prego Claudio ciao a tutti si sente? sì perfettamente va bene intanto credo che come diceva proprio in chiusura Samira noi dobbiamo veramente fa pensare la capacità che ha avuto e che hanno i palestinesi di riuscire a rientrare in campo anche in una situazione che sembrava veramente disperata perché se c'era una condizione che sembrava senza via d'uscita era proprio la loro cioè un movimento che è stato ingannato che è stato tradito che è stato isolato sul piano internazionale anche con i cosiddetti accordi di Abramo tra virgolette sponsorizzati dalla presidenza Trump che ha una leadership divisa perché appunto come si diceva già dal 2006 tra Gaza e Cisgiordania c'è c'è stata una situazione quasi di guerra civile per un momento all'interno dell'autorità nazionale palestinese che è completamente isolato anche sul piano dell'opinione pubblica perché non si parlava assolutamente più da anni ormai se non diciamo in piccoli settori di nicchia della questione palestinese è riuscito con la sua mobilitazione a riconquistare il centro dell'attenzione anche a livello mondiale e a dimostrare che non esistono cause disperate non esiste la possibilità di estirpare una mobilitazione che ha una base popolare di massa che ha alla base una contraddizione irrisolta e finché non verrà risolta questo movimento non non finisce questo lo dico anche perché qualche volta magari ci sentiamo dire è difficile superare contro il governo è difficile lottare però si può lottare in qualsiasi condizione e questa mobilitazione lo sta dimostrando e non è un caso che ha ricevuto questa solidarietà a livello mondiale che è una solidarietà che fa paura avete visto forse che in Francia hanno anche tentato di proibire le manifestazioni convocate a Parigi in sostegno si è parlato poco si è parlato pochissimo se guardiamo l'ampiezza che ha avuto questo movimento e non solo in paesi come paesi europei dove magari ci sono tanti ragazzi o immigrati o figli di famiglie immigrate che comunque provengono dai paesi arabi che si sentono di solidarizzare io credo anche riconoscono in quella lotta una lotta che parla anche alla loro condizione di discriminazione di oppressione di insoddisfazione e dunque da questo punto di vista fa veramente ribrezzo e disgusto l'ipocrisia di chi dice certo è una questione complicata storicamente bisogna vedere bisogna capire certo che è complicata ma è anche molto semplice perché mi riferisco appunto alle posizioni della sinistra riformista in particolare è anche molto semplice perché basta guardare agli avvenimenti basta sapere poco per vedere chi è cacciato e chi sta cacciando altri dalle sue terre chi viene discriminato e chi sta e chi sta discriminando il capo della come si dice responsabile della politica internazionale del partito democratico ha detto è in palestina cioè in quella no non ha detto in palestina si scontrano due diversi diritti e noi dovremmo riconoscere entrambi sì però uno di questi diritti si concretizza in uno stato armato fino ai denti che commette qualsiasi tipo di cosiddetta illegalità senza pagare nessun tipo di impegno e dell'altro al limite si può parlare ma è un diritto scritto sulla carta e su questo una cosa fondamentale dobbiamo rimarcarlo perché a volte viene descritto questo scontro come uno scontro culturale uno scontro religioso addirittura questo è uno scontro non c'entra niente queste cose questa è una veste che prendono ma questo è uno scontro per la terra per avere uno spazio dove stare dove avere il proprio paese in cui vive non è uno scontro per riconoscere questa o quella lingua questa o quella religione e il motivo per cui Hamas ha conquistato una popolarità in questi anni non è per la questione diciamo del suo programma politico e della sua visione della società concordo con quello che ha detto Samira anche qui ma è per il semplice fatto che è stata la forza più rilevante a non riconoscere quell'inganno vergognoso che sono stati i cosiddetti accordi di Oslo Oslo e Madrid che da 1992 a 1993 parlano di trattativa di pace di processo di pace di creare lo Stato palestinese sono passati quasi 30 anni e questo Stato palestinese non esiste da nessuna parte e quando nel 2000 offrirono ad Arafat un finto Stato che era circa il 10% di quella che era storicamente la Palestina come terra e ovviamente questo venne rifiutato e si disse ah i palestinesi potevano avere uno Stato l'hanno rifiutato e adesso cosa vogliono sono cavoli loro no quello non era uno Stato quella era una galera esattamente come quella in cui sono stati sono stati poi emessi e va detto che da allora l'occupazione di terra con la costruzione del muro con la costruzione di colonie e via di seguito l'occupazione di terra in Cisgiordania è aumentata ancora in maniera in maniera impressionante e va anche ricordato che nel 2018 questo governo non questo un governo presieduto da Netanyahu ha votato in Israele un cambiamento della costituzione andando a definire lo Stato di Israele come Stato esclusivamente ebraico con l'ebraico come lingua nazionale unica riconosciuta in questo modo mettendo potenzialmente nel ghetto non solamente i palestinesi dei territori occupati ma anche i palestinesi cittadini di Israele che come sappiamo sono quasi due milioni che non a caso sono stati tra i protagonisti di queste rivolte ora la questione palestinese quindi continuerà a essere un terreno di mobilitazione di conflitto fino a quando non verrà risolta e rientra a pieno titolo nel programma di una rivoluzione che non sarà solamente palestinese rientra a pieno titolo nei compiti di una rivoluzione nel mondo arabo risolvere questa come altre questioni di oppressione nazionale o etnica o religiosa per esempio la questione la questione curva non esiste un altro modo progressivo di risolverlo tutte le altre strade sono state percorse e hanno portato solo a una sequenza di conflitti fallimentari disastrosi che hanno allontanato ancora di più diciamo i diversi popoli hanno scavato questo solco di ostilità di diffidenza che oggi ovviamente non permette altre soluzioni la questione di garantire il rispetto dell'autodeterminazione può essere risolto solamente all'interno di questo quadro per via rivoluzionaria perché per via rivoluzionaria perché una volta che sono state espropriate messe a disposizione veramente della popolazione dei lavoratori dei giovani le risorse che ci sono allora è possibile anche accordarsi e arrivare a una soluzione equa sulla questione dello spazio del territorio del paese in cui vivere che ripeto questo è la questione come si dice il nocciolo della questione altrimenti qui è stata citata la parola apartheid chi è un po' più vecchio come a me si ricorda cosa è stata la lotta contro la parte di Sudafrica in Sudafrica c'erano i Bantustan che erano quelle piccole riserve dove vivevano alcune parti della popolazione africana che venivano per esempio una parte dell'Izulu che venivano riconosciute dallo stato razzista appunto come dei ghetti come delle riserve che collaboravano attivamente al mantenimento di uno stato di discriminazione per l'enorme maggioranza in quel caso della popolazione africa oggi io credo che diciamo non c'è altro modo per arrivare a cosa arrivare a quello che accennava anche Franco cioè la questione di dividere quello che è il blocco sionista e togliergli una parte della sua base di appoggio perché io credo che il sogno diciamo l'idea che Israele sarebbe stato la patria sicura il focolare per gli ebrei perseguitati eccetera ha dimostrato di essere fallimentare perché anche Israele a suo modo è una prigione seppure dorata perché dispone dell'appoggio degli Stati Uniti e di tutti i paesi più importanti e non ci sarà mai pace e sicurezza in quella terra finché rimane rimane diciamo questa 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 situazione voglio dire un'ultima cosa perché sono credo di essere la fine del mio tempo le campagne di boicottaggio possono avere un ruolo nel mobilitare l'opinione pubblica sicuramente sono importanti quelle azioni soprattutto quelle che coinvolgono la classe lavoratrice avete visto questo tentativo non è facile per esempio di avere un boicottaggio nei porti verso il trasporto di armi o di materiale bellico verso Israele una cosa che ha suscitato anche una discussione a livello internazionale però queste campagne possono avere solo un ruolo ausiliario come peraltro l'hanno avuto anche nel caso del Sudafrica che è stata la lotta di massa e lo sciopero generale che c'è stato nei territori e in Israele ha dimostrato che esiste questo potenziale ma per quello che riguarda noi io ho in mente quell'immagine che penso che tutti avete visto nei primissimi giorni quando sono iniziati i bombardamenti la manifestazione a Roma cosiddetta in solidarietà con Israele dove c'era i politici di quasi tutto l'arco parlamentare per cui c'era il PD con Letta c'era Forza Italia c'era Salvini c'era tutta questa e noi semplicemente quello che dobbiamo fare che dobbiamo spiegare è prendere quella foto prendere quell'immagine e dire al giovane che sta in Italia al lavoratore all'oppresso vado a finire ho visto i tempi Alessio e dire questi sono quelli che stanno rovinando le vostre vite che ti rovinano con la precarietà che ti rovinano con le privatizzazioni con gli attacchi ai salari con gli sfratti e non a caso quelli che sono tutti contro di te sono anche tutti a favore dell'occupazione sono anche tutti schierati a difesa di Israele sono anche tutti a difendere questa versione menzognera dei fatti che noi dobbiamo contrastare io credo che come sempre la lotta migliore che si fa in solidarietà con qualcuno che è lontano è quella che si fa in casa nostra contro quei poteri che li sostengono e che rendono possibile di mantenere questa oppressione e ho finito grazie grazie mille Claudio allora noi abbiamo ancora tre interventi a cui devo chiedere se riescono di stare negli otto minuti in modo da non andare troppo fuori dei tempi cosa che comunque faremo ma meno di farlo di poco che sono Ezubair Lalawi dopo di lui ci sarà Leonardo Melli e poi Francesco Giliani e poi lasceremo le parole a Roberto Sarti per le conclusioni prima di lasciare la parola a Ezubair vi segnalo adesso verranno mandati in chat proprio visto che diversi interventi hanno trattato comunque della parte storica diciamo delle origini storiche di tutto ciò che è avvenuto dalla nascita dello Stato di Israele dalla Nakba fino ai giorni nostri due articoli il primo appunto affronta il periodo che va con breve preambolo però fondamentalmente dalla nascita dello Stato di Israele dalle azioni terroristiche dalla Nakba e così via fino alla prima intifada il secondo va dagli accordi di Oslo a sostanzialmente la situazione la situazione contemporanea e ciò detto lascio la parola a Ezubair Lalawi che dovrebbe poter parlare mi dovreste sentire mi sentite? esattamente vai allora mi ricollego a quello che è stato detto in vari interventi in particolare a quello che ha detto Claudio nell'ultimo quando noi inseriamo la prospettiva per la liberazione del popolo palestinese in una prospettiva rivoluzionaria che rompa con la logica di questo sistema non lo facciamo in maniera stratta e non lo facciamo soprattutto su basi su basi morali perché da una parte ci rifacciamo alla teoria sicuramente dopodiché questi modelli teorici trovano la loro la loro conferma nella realtà e in particolare nella storia sia della Palestina ma anche di altri paesi arabi così come anche a livello mondiale infatti se dalla parte da parte della propaganda da parte della propaganda di massa il Medio Oriente ci viene sempre descritto come un unico blocco di fondamentalisti e contro fondamentalisti in realtà noi vediamo che storicamente nel secolo scorso soprattutto nel secondo dopoguerra abbiamo visto vari processi rivoluzionari contro l'imperialismo francese contro quello britannico eccetera e in questo senso è utile studiare questi processi proprio per ricavarne le lezioni principali e i programmi da adottare affinché processi come quello che stiamo vedendo come abbiamo visto nella primavera araba che sicuramente vedremo in futuro sulla base anche di quello che diceva Franco riguardo agli ultimi sviluppi che ci sono stati negli ultimi negli ultimi anni affinché possiamo tracciare una linea che conduca effettivamente da una parte una lotta contro l'imperialismo straniero dall'altra anche la liberazione dai propri regimi reazionali in particolare noi abbiamo visto come in vari paesi l'indipendenza dagli imperialismi stranieri non sia stata non sia stata casuale non sia stata il frutto di concessioni da parte delle potenze occidentali quanto invece sia stato il frutto di movimenti di massa questo l'abbiamo visto in Marocco l'abbiamo visto in Algeria l'abbiamo visto in Libia in Siria l'abbiamo visto in Egitto soprattutto dopodiché l'assenza di un reale partito rivoluzionario che rompesse effettivamente con con gli schemi sotto cui funziona questo sistema a livello mondiale e sicuramente i paesi arabi da questo punto di vista non non ne sono esclusi ha fatto sì che emergessero delle direzioni che paradossalmente spesso erano anche formate da ufficiali dell'esercito pensiamo ad esempio a Gamal Abdel Nasser del gruppo degli ufficiali liberi pensiamo anche allo stesso Gheddafi possiamo fare anche sicuramente anche altri esempi e dall'altro abbiamo anche visto direzioni che noi consideriamo piccolo borghesi di intellettuali social democratici che hanno diretto questi processi rivoluzionari su basi puramente democratiche puramente borghesi e sullo stampo sullo stampo nazionalista e facendo ciò quello che abbiamo visto è che nello scontrarsi con borghesi e che evidentemente hanno avuto tutto il tempo a livello storico di svilupparsi e di sviluppare strutture economiche politiche e militari evidentemente superiori hanno dovuto fare affidamento e si sono dovute appoggiare su alcuni strati della classe lavoratrice su alcuni strati dei contadini e dei piccolo e dei piccolo borghesi ma nel fare ciò non avevano alcun interesse effettivamente nel superare il capitalismo tranne in alcuni in alcuni paesi come ad esempio la Siria in cui abbiamo avuto abbiamo avuto effettivamente un abbattimento del capitalismo e l'instaurazione in realtà di uno stato sullo stampo di quello sovietico degenerato e quindi in questo senso queste burocrazie per poter portare avanti questo processo di indipendenza hanno dovuto anche fare alcune concessioni alla classe lavoratrice come ad esempio nazionalizzazioni come ad esempio sistemi di welfare in vari in vari paesi il controllo statale su alcuni dei rami principali dell'economia senza però far arrivare questo processo fino fino in fondo e questo ha comportato che in realtà nel giro di poco tempo si si rivelasse il tutto per quello che era e tutto il vecchio ciarpame rivenisse a galla infatti oggi se quando parliamo degli stati arabi non parliamo effettivamente di paesi del tutto liberi dalle ingerenze imperialiste ma anzi spesso parliamo di di uno scacchiere che gioca di sponda con varie con varie potenze imperialiste e in questo c'è un ruolo nefasso che dobbiamo sottolineare che è stato quello dello stalinismo che discostandosi completamente da tutti i principi del partito bolshevico abbiamo visto come la terza internazionale inizia ad adottare parole d'ordine come quella delle due fasi che effettivamente vanno a come dire ad affermare che si possa innanzitutto trovare un accordo di pace innanzitutto quindi cacciare il nemico fare una rivoluzione democratico borghese quindi eliminare alcuni vecchi residui di stati feudali di fatto e in seconda istanza una volta sviluppato un sistema di stampo capitalisti e quindi una volta sviluppata una propria borghesia nazionale si possa pensare effettivamente al socialismo e a tutta una serie di altre questioni e in questo quello che abbiamo visto la diretta conseguenza di questa di questa teoria è stato l'appoggio totale da parte dei partiti comunisti nei paesi arabi a queste a queste direzioni è ridicolo seppur tragico per tutti i militanti onesti che c'erano in quel partito il discorso che si può fare attorno al partito comunista egiziano che ad esempio in una prima fase ha appoggiato questo processo guidato dagli ufficiali liberi per poi vedersi nel giro di sei anni perseguitati dallo stesso esercito che loro avevano appoggiato in precedenza e abbiamo visto come anche con con il passare del tempo tutto quello che era stato conquistato o meglio anche concesso per avere il consenso da parte dei lavoratori sia stato eroso nella maggior parte degli stati degli stati arabi e quindi in questo momento noi quando parliamo del superamento di questo sistema in realtà stiamo parlando di una questione molto concreta noi stiamo dicendo che i lavoratori israeliani debbano unirsi a quelli palestinesi però finché questo avvenga noi dobbiamo trovare una base in comune noi dobbiamo capire effettivamente quali sono le cause dell'oppressione del popolo palestinese e chi ha le mani in pasta con con questo crimine è stato parlato ad esempio di Hamas noi in questo momento vediamo riparlando anche dei media un canale famoso un emittente più che famosa come Al Jazeera in questo momento sta facendo una propaganda tappeto per dimostrare che sia stato grazie ad Hamas che si è arrivati al cessato al fuoco a parte che in realtà gli israeliani hanno un sistema che intercetta il 90% dei missili che possono arrivare sulle zone residenziali però al di là di questo l'obiettivo di questi regimi Hamas come partito vediamo che riceve ingenti finanziamenti dalla Turchia dal Qatar e vediamo come ogni fazione si rifaccia ad una ad una rispettiva borghesia araba che sia questa o che sia quella ma che tutte queste in realtà hanno un unico obiettivo ovvero quello di come dire far passare l'ondata l'ondata di conflitto di classe cercare di ritagliarsi un proprio spazio all'interno all'interno dello scenario dello scenario politico e in questo quindi vediamo come emerga in maniera chiara e palese come questi emittenti cercano effettivamente di far passare in completo secondo piano in realtà il ruolo fondamentale il ruolo principale che hanno avuto le masse palestinesi ma anche quelle israeliane di cui si è parlato le mobilitazioni internazionali purché per l'appunto non si mette in discussione questo sistema e penso che in questo lo sciopero generale sia stato sicuramente il punto più alto di di questo di questi eventi chiudo negli ultimi negli ultimi 30 secondi lo spazio per una nuova forza politica e per la costruzione di un partito rivoluzionario sia in palestina che in israele c'è in palestina penso che non ci sia necessario non sia necessario spiegare il perché in israele vari compagni ne hanno parlato volevo giusto citare due dati a livello economico noi vediamo come ad esempio dal nell'anno scorso si sia passati dal 4% di disoccupazione al 24% con un milione di lavoratori completamente disoccupati il 50% di questi con un'età inferiore ai 34 anni vediamo come ad esempio ci siano state privatizzazioni su privatizzazioni e in questo momento solo il 60% della sanità è finanziata dallo Stato penso quindi che in questo momento veramente chiudo come è stato detto da vari compagni il coraggio dei palestinesi non merita di essere ripagato con tradimenti con tentennamenti e con false illusioni in questo o in quella in quella fazione politica ma penso che oggi si tratti effettivamente di cercare di costruire un'alternativa che rompa con tutto ciò che abbiamo visto fino ad adesso grazie grazie Zubair allora adesso c'è Leonardo Melli mentre inizia Leonardo vi inoltre un messaggio che mi ha inviato in chat Nestrin Bensellam con un commento rispetto all'intervento di Andrea Davolo precedente e niente te lo mando in modo che tutti lo possiate leggerlo adesso però do ah però non lo vedo Leonardo allora intanto questo è il commento però se non vedo Leonardo Melli a questo punto è un'unità proprio presente per cui niente sperando che abbia avuto il tempo di leggere il commento caso mai volesse rispondere lascio a questo punto a Francesco Giuliani la parola se è pronto per l'ultimo intervento prima delle conclusioni di Roberto prego Francesco ciao grazie grazie Alessio compagni io credo che in queste settimane stiamo vedendo da un lato i frutti amari amarissimi degli accordi di Oslo e Madrid del 92 93 e dall'altro il nuovo cioè una una mobilitazione che contiene in sé in potenza l'alternativa a quella via a quella strada senza uscita in cui sembrava apparentemente essersi essersi cacciato il popolo palestinese dopo Oslo però ci tengo a dire che 30 anni fa quando vennero siglati gli accordi di di Oslo la sinistra riformista in tutto il mondo li celebrava come il non plus ultra del del realismo e criticava chi come anche come anche noi io faccio parte di sinistra classe rivoluzione da da tempo chi come anche noi criticava quegli accordi sostenendo che quegli accordi non avrebbero consentito alcuna evoluzione graduale o meno verso due popoli due stati come diceva come diceva anche Arafat ma che al contrario quegli accordi sarebbero stati una trappola per il popolo palestinese che bilancio se ne può trarre a 30 anni di distanza quegli accordi hanno consentito da un lato ai governi sionisti che si sono succeduti di accelerare nel processo di colonizzazione dei territori occupati particolarmente negli ultimi dieci anni l'accelerazione è stata brutale direi quasi in concomitanza anche con l'aggravarsi della crisi politica e dell'instabilità in Israele dall'altro gli accordi di Oslo hanno fatto dell'OLP un vero e proprio strumento utilizzato da Israele per sorvegliare i palestinesi e per tenerli a bada la polizia dell'autorità nazionale palestinese è stata a giusto titolo penso percepita da ormai da molti anni come una forza ausiliaria rispetto alle forze alle forze armate sioniste alle forze armate dispiegate da da Israele in questo senso la soluzione dei due popoli due stati che era decantata già negli anni novanta come l'unica soluzione realista si è mostrata come una soluzione non realista e nemmeno in un certo senso desiderabile perché due popoli due stati nella condizione attuale di Israele significa o la riduzione dei palestinesi a Bantuston come già Claudio Bellotti ha spiegato questo che si è prodotto che si sta producendo è una rappresenta appunto una vera e propria prigione a cielo aperto per i palestinesi e qui non si parla di uno stato perché non c'è neanche un minimo di continuità territoriale nei territori appunto occupati dall'altro è assolutamente reazionaria anche la soluzione che hanno da sempre agitato le forze fondamentaliste islamiche tra cui Hamas cioè quella di una soluzione che fosse tra virgolette il buttare amare gli ebrei i marxisti sono come marxisti siamo internazionalisti la nostra soluzione non può basare il futuro dell'umanità e di quella zona su una contropulizia etnica che non è appunto desiderabile non è progressista in alcun modo ma non è neanche poi realistica perché l'esercito di Israele anche grazie alla tecnologia che riceve da decenni dagli Stati Uniti d'America ha una forza militare che è assolutamente incomparabile con quella che può mettere in campo Hamas e dunque non è una sconfitta militare di Israele non è possibile anzi Israele in questo senso favorisce l'immagine di un conflitto che è sempre ridotto a conflitto tra Israele e Hamas perché questo dà modo alla classe dirigente sionista di cementare un blocco interclassista in Israele e dunque di mantenersi e dunque di mantenersi in sella in questo senso sarebbe paternalismo verso i palestinesi non esprimere con chiarezza il nostro punto di vista su Hamas che è una forza che non beneficia la lotta di liberazione nazionale palestinese al contrario e che è anche non una come dire un movimento interessato genuinamente alla liberazione nazionale del popolo palestinese ma un movimento che è finanziato e dunque prende ordini da potenze imperialiste regionali come la Turchia l'Iran di potenza l'unica soluzione che appare realistica dal mio punto di vista socialista del Medio Oriente che è l'unica soluzione che potrà consentire il rispetto di diritti nazionali linguistici religiosi gli ebrei che agli arabi parlano domani mattina ma in realtà è l'unico percorso l'unico sentito ritardato anche altri mi sa che hanno avuto problemi sì vedo un sì ringrazio Daniel che è la mia controprova diciamo almeno da Federazione Socialistica del Medio Oriente partiamo dalla rivendicazione va bene magari tu provi a togliere il video allora è chiaro che la Federazione Socialista del Medio Oriente è l'unica prospettiva che potrà garantire diritti nazionali linguistici e religiosi a tutte le popolazioni che vivono in quelle terre non solo anche altre minoranze come Drusi Beduini e altre ancora di quel complesso mosaico che è il Medio Oriente e anche la Palestina per raggiungere quella prospettiva però è necessario è un passaggio decisivo il rovesciamento della classe dirigente sionista e questo obiettivo può essere raggiunto soltanto se Israele si si sfrangia si disgrega come monolite e come dire appaiono e si manifestano le le differenze di classe gli antagonismi sociali e le oppressioni diversi compagni hanno richiamato il potente sciopero che il 16 maggio ha conosciuto tutta la Palestina storica ma anche il sciopero seguitissimo dagli arabi israeliani ricordo che se gli arabi israeliani sono il 20% della popolazione di Israele costituiscono il 50% nel settore delle costruzioni nel settore dei trasporti e anche percentuali importanti per esempio tra i medici e gli infermieri dunque settori centrali dell'economia quello sciopero è stato un avvertimento molto molto efficace verso i piani criminali della classe dirigente sionista ma la società israeliana è estremamente diseguale secondo la stessa Ocse ha tassi di diseguaglianza tra i più alti al mondo nei paesi a capitalismo avanzato tassi simili a quelli degli Stati Uniti d'America più del 20% della popolazione in Israele è considerata povera e oltre alle discriminazioni verso gli arabi che a partire dalla costituzione del 2018 sono cittadini di serie B ma le discriminazioni ci sono anche tra gli ebrei per esempio gli ebrei che provengono dall'Etiopi falascià sono notevolmente discriminati e più in generale gli ebrei che provengono dall'Africa e dal Nord Africa hanno condizioni di vita di lavoro di istruzione inferiori c'è una come dire una una piramide di fatta di notevoli diseguaglianze in Israele e quello è materiale sociale estremamente infiammabile che solo la propaganda sulla sullo stato d'assedio sulla necessità di essere tutti uniti contro gli arabi permette a gente come Netanyahu appunto di stare in piedi e di impedire una un'esplosione sociale di cui ci sono tutti i pre i prerequisiti dunque Israele non è la più grande democrazia del Medio Oriente come piace dire ai ai giornalisti italiani e non solo è uno stato capitalista dove la diseguaglianza è fortemente accentuata e oltre a questa si aggiungono elementi di oppressione nazionale e religiosa è chiaro che però il rovesciamento la prospettiva di un futuro rovesciamento della classe dirigente sionista non può essere disgiunto da una prospettiva di trasformazione socio socio economica di una trasformazione rivoluzionare quindi di un esproprio di quelle ricchezze che già ora potrebbero consentire a israeliani e palestinesi di avere una vita degna di essere vissuta perfetto la fine si è sentito benissimo l'intervento grazie grazie a Francesco a questo punto lascio la parola a Roberto Sarti per l'intervento conclusivo di questa assemblea prego ma intanto ringrazio tutti gli intervenuti e tutti i partecipanti credo che sia stato un dibattito molto ricco un dibattito che qua in Italia pochi possono fare innanzitutto un dibattito che ha aiutato a scorciare il velo ma che è il velo cioè una cortina fumogena della propaganda incessante che i media che la tv che i giornali che i luoghi comuni che sentiamo tutti i giorni per strada ci danno di quello che succede in Palestina è un'informazione a senso unico di cui tanti sono scandalizzati e hanno ragione a essere scandalizzati perché quando vediamo certe immagini appunto i bambini descritti da diversi compagni che i giornali descrivono come terroristi gli scudi umani cosiddetti che giustificano l'ecercito dell'esaliano per i suoi bombardamenti nei confronti di ospedali eccetera sono schifosi sono vergognosi sono ributtanti questa propaganda però noi dobbiamo capire anche perché succede perché esiste questa propaganda da una parte la conto informazione è assolutamente necessaria e noi la continuiamo a fare da una parte noi staremo sempre a fianco del popolo palestinese nella sua lotta nella sua resistenza però compagni e amici nella società in cui viviamo è una società divisa in classi l'ideologia dominante è sempre quella della classe dominante e ancora di più in una situazione come quella di un conflitto militare pure totalmente diseguale pure fatto da Davide contro Golia però già lo capivano lo dicevano gli antichi greci nella frase famosa di Eschilo che spiegava che in guerra la prima vittima era verità ed ancora oggi è così non dobbiamo stupirci della propaganda dobbiamo semplicemente essere coscienti denunciare questa propaganda e capire che questo è uno dei metodi della classe dominante in tutti i paesi per preservare il proprio dominio per cercare di far sì che i giovani che i lavoratori che gli oppressi stiano sempre al loro posto muti e buoni e a dire sì a quello che appunto i mass media gli spiegano e dobbiamo ogni volta e questo penso che sia il senso di questa assemblea che noi abbiamo fatto come sinistra classe rivoluzione prendere e cogliere il senso ultimo il senso profondo di tutte le azioni che la classe dominante fanno sia dal punto di vista pratico militare sia dal punto di vista ideologico e una lotta quindi per un'informazione vera per un'informazione veramente democratica è una lotta per rivoluzionaria per cambiare questa società per la nostra realizzazione nei mezzi di informazione e contratti dai giornalisti e dagli e dagli utenti il compagno non so se posso chiamarlo compagno spero di sì di Our Voice è intervenuto è un intervento per gran parte condivisibile sulla grande novità di queste di queste mobilitazioni e io credo che su questo siamo assolutamente assolutamente d'accordo poi ha spiegato che noi abbiamo bisogno di atti pratici per come passo per andare avanti nella nostra mobilitazione a sostegno qua in Italia del popolo della lotta del popolo palestinese ora sicuramente noi abbiamo bisogno di atti pratici ma per comprendere quali sono gli atti che noi dobbiamo fare perché non siamo un club di discussione dobbiamo comprendere prima di tutto dove ci troviamo perché una cosa succede e dove vogliamo andare e qual è il nostro obiettivo ora qual è l'origine della questione palestinese qual è l'origine del dramma del popolo di Palestina è dovuto a qualche complotto sionista che trae origine nella notte dei tempi è la colpa di un destino cinichebaro no assolutamente la colpa l'origine del dramma palestinese è nella società capitalista in cui viviamo e particolarmente come ha spiegato brillantemente il compagno George nella sua introduzione la colpa è dell'imperialismo che ha scientificamente operato la divisione del popolo arabo durante dopo la prima guerra mondiale e ha scientificamente cercato di inserire un cuneo diciamo una propria forza che potesse divide la lotta della popolazione araba con con l'arrivo appunto con il sogno che poi è diventato in realtà un incubo della della nascita di Israele questo progetto poi è stato ancora di più amplificato da che cosa? dalla tragedia dell'orocausto che ha fatto diventare la proposta di uno stato di Israele una calamita ancora più grande per gli ebrei per gli ebrei di tutto il mondo ma anche l'orocausto ha delle case ben precise cioè è diciamo l'espressione più estrema del fascismo che diceva Trotsky che era il distillato del capitalismo e allora compagni ed amici se noi qua vogliamo veramente sviluppare degli atti concreti a solidarietà del popolo palestinese noi dobbiamo combattere prima di tutto quel mostro che aveva generato questo dramma che è l'imperialismo che è il sistema economico capitalista come ha già spiegato il compagno Claudio prima di me anche se brevemente perché ha meno tempo il boicottaggio come arma principale della nostra lotta non è non è lo strumento per varie ragioni primo perché Israele è uno stato capitalista l'economia che lo domina è capitalista vediamo per assurdo che sulla base del boicottaggio negli anni 80 si faceva quando ero giovane e bello con sui pompelmi di Jaffa adesso sono tante altre cose che si possono fare in Israele vogliamo per assurdo che questo boicottaggio ha effetto e noi riusciamo a far fallire una delle imprese israeliane scusate o varie multinazionali o non sono multinazionali cosa succederebbe succederebbe che queste sarebbero rimpiazzate da altre multinazionali che invece di un borghese israeliano che sfrutta questi lavoratori il borghese diventerebbe un borghese arabo o semplicemente sarebbe presa rilevata da un capitalista americano o europeo cambierebbe qualcosa nella oppressione dei lavoratori sia israeliani che arabi in Israele e in Palestina assolutamente nulla assolutamente nulla perché non abbiamo messo in discussione il sistema stesso è capitalista ben diverso è il boicottaggio di classe ben diverso è l'azione che stanno facendo i lavoratori o che vorrebbero fare che in alcuni casi non è ancora stato efficace ma i lavoratori in diverse parti del mondo da Ravenna a Livorno fino a Durba in Sudafrica notizia di oggi di uno sciopero del rifiuto di questi lavoratori in un poto molto importante di caricare una nave una nave israeliana perché attraverso la solidarietà di classe che noi possiamo far vedere la soluzione il boicottaggio alla fine finisce per essere una scelta individuale che oltretutto non è efficace dobbiamo sempre chierirci gli atti pratici per che cosa noi pensiamo per rovesciare il sistema capitalista che in ultima analisi è l'unica possibilità per riuscire ad avere una vera soluzione per il dramma del popolo del popolo palestinista perché chiediamoci qual è la soluzione hanno provato a fare uno stato capitalista in palestina diversi compagni hanno spiegato non sto ad entrare nei dettagli l'accordo di di Oslo la creazione dell'autorità nazionale palestinese l'autorità nazionale palestinese è stata una truffa per i palestinesi è stata un'istituzione che ha favorito una cricca l'elite di Fatah che è corrotta è degenerata pensate che in palestina non si fanno elezioni dal 2006 sono 15 anni e le hanno ritardate ancora perché perché Abu Mazen pensava di poter perdere come hanno detto i compagni su questo rimandiamo agli scontri che si stavano sviluppando un articolo che abbiamo scritto sul numero precedente di rivoluzione che potete ancora trovare in pdf sul nostro sul nostro sito è un'elite molto limitata che si è tramutata anche in vera e propria polestina che esisteva già prima perché la polestina palestinese esisteva anche prima che si è avvantaggiata ricordiamoci che quando si creava l'autorità nazionale palestinese avevano già privatizzato tutto privatizzato tutto prima di farlo cioè dovevano fare l'aeroporto avevano già togli umani privati eccetera eccetera le energie elettiche eccetera eccetera questo non solo per noi non è una soluzione in generale ma è stata una tragedia nella realtà per gli stessi palestinesi cioè l'autorità nazionale palestinese è stata da un lato uno strumento da parte degli israeliani con la classica politica del divide timpera per opprimere meglio per controlla meglio le masse palestinesi e dall'altra parte ha nient'altro fatto altro che creare un'alternativa purtroppo reazionaria che era quella di Hamas non c'è soluzione quindi nel capitalismo non c'è soluzione nell'affidarsi in qualunque di quelle borghese alabe che sono tutte reazionarie per la soluzione dei primi scusate la ripetizione delle masse palestinese qualche accenno l'hanno fatto i compagni vogliamo parlare appunto di cosa è successo nel settembre del 1970 in Giordania con l'uccisione sistematica da parte del re di Giordania e dei cimili dei prestinesi vogliamo parlare del massacro impedito da Bassabra e Sartila da parte degli israeliani e delle ministre scusate maronite perpetrato sulla base del fatto che i governanti libresi ne fessero lasciati passare vogliamo parlare di come si comporta la borghesia egiziana a Gaza non c'è soluzione su questo allora l'atto concreto che noi dovevamo portare avanti compagni è lo sviluppo di un programma di un'analisi di una prospettiva per la lotta per la liberazione nazionale in Palestina in Israele e in tutto il Mediterraneo per la lotta che deve essere per forza una lotta che è connessa a doppio a tri profilo con la lotta per l'evoluzione socialista probabilmente c'è la domanda un commento che ha fatto la compagna di cui non mi ricordo il nome scusate mi scuserà noi quello che vogliamo non è un atto di pace nel senso noi ci piace molto la pace però la pace sarà impossibile raggiungere in questo sistema quindi noi per raggiungere la pace vogliamo la guerra vogliamo la guerra di classe l'unica che può unire le masse in tutto il Medio Oriente e gli oppressi che esistono anche in Israele che Israele si mantiene come uno stato più o meno compatto che sembra di fare compatto solo perché Netanyahu è la classe dominante israeliana provoca una guerra un'aggressione ogni momento quanto ciò in tutto ancora 5 minuti sì grazie ora e quindi la la politica che dobbiamo avere è una politica di classe che mira a far esaltare queste contraddizioni all'interno della d'Israele mira a dividere i lavoratori israeliani dai borghesi israeliani e per questo può essere solo un programma socialista un programma che dice che noi vogliamo rovesciare tutti i governi tutti i governi dell'area vogliamo rovesciare il governo israeliano quello per l'autorità nazionale palestinese vogliamo rovesciare il governo egiziano il governo libanese è un'utopia ma per niente nel 2011 si è arrivati molto vicini a questo con le rivoluzioni arabe ed anzi in Egitto avevano visciati due governi nel giro di 18 mesi e se non si è riusciti a fare la rivoluzione è solo perché mancava una direzione e se oggi in nella striscia di Gaza Hamas domina anche se è stato in crisi ma adesso è tornata all'estero popolare è perché la sinistra ha perso ha perso il suo programma rivoluzionario ha perso il suo programma che mette in discussione il capitalismo e si è affidata alle scorciatoie alle teorie dei due stadi come hanno spiegato altri compagni fino al fatto che nel 1947 l'Unione Sovietica riconobbe lo Stato di Israele con questa politica di consistenza pacifica quindi l'Islam è cresciuto per il foro intera sinistra ma entrerà in crisi quando la lotta di classe tornerà tornerà ad essere in auge e quindi appunto la prospettiva la proposta che noi facciamo della Federazione Socialista del Medio Oriente si connette naturalmente con la realtà di oggi una realtà fatta di rivoluzioni una realtà fatta della rivoluzione in Libano che ha eliminato per tutto un periodo chiaramente poi la classe 20 cerca di farle vedere di nuovo venendo di nuovo fuori le differenze che c'erano fra le 100.000 etnie le 100.000 religioni che esistono in Libano e l'avete visto nel 2019 un movimento eccezionale stupendo di tutti i lavoratori di tutti gli oppressi uniti contro i corrotti al governo non solo i corrotti i leader cristiani non solo i leader musulmani ma anche i leader usciti di Hezbollah e una federazione socialista che garantisca il diritto della tua determinazione perché appunto se tu vuoi veramente far sì di poter abbattere uno degli eserciti più potenti del mondo del polio israeliano devi creare un solco devi dire questi mi stanno facendo le masse palestinesi in lotta una proposta che va verso i miei interessi che garantisce il fatto che io come lavoratore non sarò più uno schiavo ok ma potrò aspirare alla mia liberazione una liberazione economica e per questo il programma deve essere un programma comunista un programma rivoluzionario se vogliamo veramente riuscire a risolvere la questione dell'oppressione nazionale palestinese però compagni amici per arrivare a questo non si può improvvisare c'è bisogno di un partito c'è bisogno di un'organizzazione che discuta e sviluppi questo programma per l'azione pratica che deve arrivare in precedenza questo partito questa organizzazione siamo noi lo diciamo senza modeste la tendenza anarchista internazionale sinistra classe di rivoluzione in Italia la tendenza anarchista internazionale che sta cercando di costruire un'alternativa anche nel mondo arabo anche in ogni paese dal Marocco fino all'Iran anche in quei paesi che sembrano più oppressi anche nei paesi in cui sembrano più impossibile come l'Arabia Saudita come gli Emirati Arabi anche in quei paesi noi stiamo cercando di costruire un'alternativa perché la rivoluzione o sarà internazionale non sarà perché la liberazione delle masse palestinesi o sarà internazionale non potrà avvenire perché la liberazione di noi stessi come lavoratori come giovani potrà avvenire solo attraverso il socialismo e la costruzione di un partito rivoluzionario in tutto il mondo e vi ringrazio buona serata e come ho visto c'è un stupendo link che dovete solo cliccare per iniziare a lavorare con noi in questa prospettiva in questa grazie grazie mille Roberto per queste splendide conclusioni molto molto chiari e anche di grande ispirazione per per quello che resta da fare quello che c'è da fare ha detto tutto lui quindi a me non resta niente da dire trovate nella chat il link a questo a questo opuscolo questa rivista di approfondimento la rivoluzione araba ieri, oggi e domani dove trovate anche uno degli articoli storici sulla sulla Palestina di cui dicevamo prima e abbiamo avuto degli splendidi numeri secondo me si sono registrate 224 persone sono entrate in questa assemblea 193 poco prima della fine gli ultimi non li contiamo gli ultimissimi ritardatari ringrazio ancora tutti ringrazio i 100 che hanno resistito fino alle 8 e mezza e veramente lì c'è il link noi questi argomenti queste discussioni le facciamo regolarmente nelle nostre cellule nei nostri gruppi nelle città in cui siamo presenti in Italia e in tutti gli altri paesi come ricordava anche Roberto e quindi se questa assemblea se vi trovate d'accordo con le cose che sono state spiegate se volete anche approfondire dei punti non esitate a contattarci a compilare il link o a scriverci ai recapiti che trovate sul sito rivoluzione.red o su tutti i nostri social social network grazie mille credo che usciamo decisamente più arricchiti con le idee più chiare e anche più convinti di come siamo entrati da questa discussione buona serata a tutti e spero che ci rivedremo ciao a tutti ringrazio grazie a tutti grazie a tutti